ebbè ma qui è capabile di una generazione del formaggio una volta c'era una mangiata la quale è venuta di me ma tu sei anche un'initazione io quando ero da te a noi ho finito parlare di te quindi ci sono questi... si tramandano, e lui storici carino si, sono una sola cosa di Adriana, di Lombardo ah, no, ma guarda io non ho capito io ho detto una volta la vision research anni 70 perché guarda che il paper visual context and discussion in 1973 guarda è proprio un'idea poi in quegli anni tutto il dibattito edge detection verso storie ma sono cose che mi emoziona soltanto a ricordare poi secondo me sarebbe interessante questo detto noi vogliamo fare un vision in 1975 lo vogliamo fare eh? guarda secondo me dovrebbe poi secondo me dovrebbe continuare a procedere una periodo di commissario ci sono una volta che condanna la prima è un'idea questo è un'idea che è un'idea tra l'altro io sono, siccome io nella letterativa della visione, io sono cari, perché io non ero in quegli anni, e poi ho seguito molto, e recentemente, l'articolo sanitario, in cui sembrava che descrivessero, cioè non sembrava, descrivessero l'organizzazione della certezza, con quel tema, sa e se lo senti, condimentare a quella dell'organizzazione della visione, le righe, le righe di frequenza, sono buona, e allora l'ho mandato alla versione dicendo, dalla stessa famiglia al più, cioè, e quindi io sono, mi piace, io non so adesso, cosa si domanda, però è che per me è un po' concetto, esattamente, per me, esattamente, secondo me le studenti sarebbero una cosa interessante, per gli altri, ma per me è un po' concetto, ma per me è un po' concetto, ezione che è un po' concetto, è un po' concetto, e bene se vuole un po' concetto, simpolo che io non so se, non c'è una semplice, la sezione, diciamo, non contribere, ma fire, non cercare di quanto le studenti, tendo a fare un palazzo, potrei tentare di trovare a fare un po' concetto, ed è l' temo, spesso, però forse, se no, vi accorgiamo, a me credo un piacere di questo. Secondo me è un uomo di tenere altra roba, perché magari uno poi riposa i lavori più recenti, che sono ancora mai... però quella lì è natura lì, come anche un'altra cosa, single cell recording, correlato con la percentuale, oggi è una cosa, non è, se le fai al corso mi hanno detto, però oltre che il corso, secondo me pare anche... Sì, 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 c'è un grande interesse. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Non è possibile visualizzare solo la struttura neuronale, ma anche la funzione. E questo è stato reso possibile ultimamente grazie a una famiglia di indicatori, cosiddetti indicatori calcio. Cosa succede quando, come vedete qui, un neurone viene depolarizzato? Un neurone che riceve un ingresso sinaptico eccitatorio, in questo caso, vedete la sinapsi in blu, che rilascia glutammato, il neurone tipicamente apre delle conduttanze al calcio. Qui sono dei canali, per esempio, calcio-voltaggio dipendenti o recettore NMDA, come qui è indicato. Quindi c'è un influsso di calcio e è stato possibile sviluppare tutta una serie di indicatori che vanno a detettare proprio la concentrazione di calcio intracellulare. Vedete, per esempio, questo indicatore chiamato GCAMP, che è composto dalla green fluorescent protein, la enhanced version in verde, EGFP, poi una porzione della myosin light chain, M13, e una porzione della proteina calmodulina. Quando il calcio si lega ai pallini rossi, la concentrazione di calcio aumenta nel neurone, si ha una modifica conformazionale del sensore, per cui il sensore diventa fortemente fluorescente. Quindi attivato, per esempio, con una luce a 485 nanometri, oppure con una metrosopia a due fotoni, con due fotoni nell'infrarosso che danno la stessa energia per effettuare questo salto quantico, si ha una riemissione di fluorescenza molto forte. Quindi in questo modo è possibile misurare dettagliatamente le concentrazioni calcio all'interno della cellula. E qui vedete un esperimento nel quale le variazioni di calcio di un singolo neurone, vedete il neurone in alto, il neurone è stato registrato, è stata registrata la sua attività con una pipetta, quella raffigurata in rosso, e nello stesso tempo è stato fatto l'imaging del calcio. E vedete che c'è una buona relazione tra le variazioni delle concentrazioni di calcio, questi transienti, questi picchi positivi, e il firing neuronale. Di sotto vedete una traccia in cui ogni potenziale d'azione messo dal neurone è rappresentato da una sbarretta verticale. Vedete che ci sono i singoli spike, quelli indicati con gli asterischi, danno luogo a una piccola variazione di calcio, due spike, una variazione maggiore, e sei spike, vedete una variazione molto più ampice, e come vedete sotto una correlazione abbastanza lineare. Quindi in qualche modo la lettura delle concentrazioni di calcio ci offre un readout molto diretto del livello di attività di firing, di spiking di questi neuroni. E con questi indicatori calcio, sono indicatori che sono genetically encoded, cioè si possono creare dei topi in cui questi indicatori sono già presenti all'interno delle cellule, di specifici tipi cellulari, per esempio in questo caso i neuroni piramidali della corteccia cerebrale. Qui siamo nella corteccia visiva, vedete nella parte occipitale, e in quel pannello potete vedere i nostri neuroni marcati in verde, ci sono anche degli astrociti che sono marcati invece in giallo, e in questo esperimento particolare al topo venivano presentati degli stimoli visivi. Vedete gli stimoli venivano presentati all'occhio destro, è un reticolo, una serie diciamo di barre bianche e nere di cui ne parleremo anche dopo, e quello che vedete tramite l'indicatore che è già contenuto all'interno di queste cellule, possiamo misurare questi transienti di calcio. E vedete che le cellule sono molto selettive, per esempio la cellula 1 risponde a delle barre di luce che si muovono, vedete, o dal basso verso l'alto o dall'altro verso il basso, sono le cosiddette sbarrette celesti. E lo stesso neurone non risponde agli altri orientamenti. Vedete invece per esempio che il neurone 2 risponde soltanto alle barre orientate obliquamente rosse, quindi c'è una notevole selettività nella risposta. E quello che vedete a destra, dove c'è la barra di calibrazione 20 micron, vedete questa mappa corticale con gruppi di neuroni che rispondono agli orientamenti diversi della corteccia. Quindi questa tecnica è molto potente perché ci permette di vedere l'attività a livello delle singole cellule, e di fare una fotografia, vedete, in cui si possono osservare decine di neuroni simultaneamente. Quindi questo è molto importante. Avevo un video, non so se è possibile vederlo, magari lo vediamo dopo anche in fase di discussione, magari diciamo che non abbiamo ulteriori problemi tecnici. Lo vediamo dopo. Oppure proviamo? Allora, qui vedete un esperimento proprio del nostro laboratorio. Vedete proprio le cellule come... Qui siamo nella retina, le cellule bianche sono caricate con l'indicatore calcio, quello che vedete anche dei vasi in trasparenza, vedete che ogni tanto ci sono questi burst di attivazione. Vedete che le cellule... Ve lo rimetto. Dovreste osservare che ogni tanto il campo si illumina. Vedete ci sono questi burst di attività. Queste si chiamano onde retiniche. Vedete a un certo punto... Quindi in un campo così grande possiamo osservare in realtà, in questo caso, centinaia di neuroni e misurare proprio la loro attività. Quindi per darvi un'idea di quanto potente sia questa tecnica. Questo per quanto riguarda l'animale. Nell'uomo ci sono tecniche con le quali non c'è una risoluzione cellulare, che però ci permettono di vedere i moduli del cervello in azione. Le tecniche standard e tradizionali sono la risonanza magnetica funzionale e la tomografia e emissione di positroni, o la PET. E qui vedete un soggetto nel quale... Qui sono attivate praticamente le aree... Quella più a destra è l'area occipitale, la corteccia visiva, quindi dopo un compito, per esempio, di osservazione. Poi vedete l'area di verniche e l'area di broca, quindi quella che viene attivata quando il soggetto parla. Quindi vedete, con una risoluzione abbastanza dettagliata è possibile andare a individuare quali sono i gruppi di neuroni che si attivano in risposta a un dato compito. Un'altra tecnica molto potente che è emersa negli ultimi anni è la cosiddetta stimolazione magnetica transcranica. E questo è molto utile perché permette sia di andare ad attivare selettive aree corticali che come funziona? Funziona con questo strumento che è un coil. Questo coil fornisce... E' posizionato proprio sullo scalpo. Anch'io ho fatto da soggetto, diciamo, in questi esperimenti. E il sistema fornisce un piccolo impulso magnetico che si traduce in una corrente nei neuroni sottostanti. Questa corrente attiva, per un periodo di tempo molto transiente, si danno stimoli di solito dell'entità di 200 microsecondi, attiva i neuroni sottostanti. Per cui in questo modo è possibile, per esempio, andare a fare una mappatura della corteccia motoria. Per esempio, dando dei piccoli stimoli, è possibile andare a mappare la nostra corteccia motoria e visualizzare quali parti del corpo si muovono in risposta alla stimolazione di specifiche aree. Però si può fare anche di più con questa tecnica perché è possibile fornire, per esempio, una serie di stimoli in sequenza. Quella che viene detta stimolazione magnetica ripetitiva. E a seconda della frequenza di stimolazione è possibile andare ad attivare o inibire la regione corticale sottostante. Quindi con una stimolazione a bassa frequenza andiamo a inibire l'area corticale sottostante. Con una stimolazione ad alta frequenza andiamo ad attivarla. Quindi in qualche modo, specialmente con la tecnica di inattivazione, è possibile chiedere al soggetto di fare un compito, poi andare in qualche modo a spegnere transitoriamente l'attività neuronale in una determinata area corticale e verificare qual è l'impatto sul comportamento. Quindi questa è una tecnica molto importante perché veniva consentita una volta soltanto dagli studi cosiddetti di lesione, quindi da soggetti che per motivi vari avevano dei danni in specifica aree cerebrali e questi erano associati a un deficit funzionale. Mentre invece in questo modo abbiamo una modalità molto transitoria e molto efficace per andare a individuare il ruolo di varie aree corticali in specifici compiti. Se avete dubbi, interrompetemi. Possiamo anche anticipare un pochino la parte di domande. Questo era per darvi un'idea delle tecniche che ora vedremo applicate molto utili per lo studio della plasticità, di come le connessioni cambiano. e in generale si dice che nello sviluppo del cervello sono coinvolti sia fattori genetici che fattori ambientali. Qui vedete il drammatico sviluppo delle strutture cerebrali nel bambino da 25 giorni fino a 9 mesi. E in generale quello che è importante è che il nostro corredo genetico ci dà dei vincoli, ci dà dei constrainti in qualche modo, all'interno dei quali però agisce in maniera molto potente l'esperienza. Quindi l'esperienza, il tipo di esperienza individuale, porta a una espressione specifica di queste potenzialità che sono innuce, che sono settate dal nostro corredo genetico. Un concetto importante è che l'esperienza agisce prevalentemente entro delle finestre temporali specifiche. Quindi le stimolazioni da parte dell'ambiente sono particolarmente efficaci se concentrate in queste finestre temporali che sono tipicamente precoci nel bambino. Quindi le tracce che vengono in qualche modo iscritte nei circuiti neuronali nell'età precoce vengono poi mantenute nell'età adulta e vedremo vari esempi di queste tracce, di queste tracce neuronali. Per chiudere il discorso dei geni, in qualche modo vi dovete immaginare che il nostro corredo genetico specifichi in qualche modo un circuito con delle connessioni che vengono definite in qualche modo grossolane. Qui vedete nella parte sinistra la mappa iniziale, quindi i geni in questo caso coinvolti nella formazione delle proiezioni tra la retina e le strutture centrali. vedete che si crea una mappa sulla base di gradienti di molecole fenomeni controllati appunto dall'espressione genica però la mappa in qualche modo una mappa diciamo grossolana non precisa, non punto a punto. Del resto diciamo dato l'enorme numero di neuroni nel nostro cervello sarebbe impensabile con il numero limitato di geni 20-30 mila geni specificare le connessioni punto a punto. Quindi quello che fanno i geni è di specificare un'architettura in qualche modo grossolana. Quello che avviene dopo, molto importante è il ruolo dell'attività. Poi il motore diciamo si accende i neuroni cominciano a sparare a essere attivi e questo processo innesca delle modifiche attività dipendenti che portano al raffinamento dei circuiti. Quindi una mappa iniziale grossolana che poi viene raffinata proprio dall'esperienza. In questo caso viene fuori il ruolo potente dell'esperienza. e prendiamo proprio partiamo dal visivo che è stato come diceva il professor Cattaneo il mio argomento di studio per molti anni. Un bambino alla nascita ha un'acuità visiva quindi una qualità della visione capacità di discriminare due punti distinti nello spazio molto grossolana. Vedete qui per esempio la percezione del viso della mamma in un piccolo e in un adulto. quindi c'è un aumento considerevole dell'acuità visiva quella che normalmente si misura dall'oculista con la tavola ototipica. E in parallelo vedete a questo aumento dell'acuità che vedete lì nell'uomo e nella scimmia la riga rossa c'è un decremento del potenziale plastico del sistema. E' importante segnalare che questa maturazione questo aumento di acuità visiva durante lo sviluppo è dipendente strettamente dall'esperienza sensoriale. Se l'esperienza sensoriale è totalmente assente o alterata questo processo subisce delle modifiche irreversibili. E qui voglio citare gli studi che sono stati studi pionieristici da parte di Jubele Wiesel due neurofisiologi molto famosi che hanno avuto nel 1981 il premio Nobel per i loro studi sulla fisiologia del sistema visivo e studiarono in particolare nell'animale un problema che ha un correlato clinico molto importante. Avrete sicuramente visto dei bambini con l'occhio chiuso. sono bambini che hanno a causa per esempio di una cataratta unilaterale oppure di un vizio refrattivo di un occhio hanno avuto una visione alterata appunto da uno dei due occhi. Durante questa fase precoce nel bambino c'è un fenomeno di competizione tra i due occhi per il possesso dei territori corticali. cioè le afferenze dai due occhi competono a livello della corteccia per il controllo e vedete che normalmente nella figura che è in basso a sinistra i due occhi cioè il blu e il rosso occupano spazi uguali nella corteccia visiva. Qui siamo nello strato 4 della corteccia visiva e queste sono le cosiddette colonne di dominanza oculare. Se un occhio per esempio l'occhio blu ha un vizio refrattivo una cataratta quindi la qualità della visione è scadente vedete che lo spazio corticale dedicato a quell'occhio si restringe drammaticamente e l'occhio perde gran parte della sua acuità visiva e della sua sensibilità al contrasto. Quindi non matura correttamente. In questi casi siccome c'è un processo competitivo cosa è necessario fare? Innanzitutto rimuovere la cataratta precocemente e poi per controbilanciare questo fenomeno è necessario andare a chiudere diciamo a suturare temporaneamente l'occhio sano in modo tale da far sì che questo venga svantaggiato e l'occhio debole l'occhio col vizio refrattivo possa recuperare quel territorio corticale che aveva perso durante la prima fase di deprivazione. Questo nel periodo critico e lo vediamo subito. Qui vedete semplicemente una marcatura nell'animale è possibile marcare queste fibre che arrivano dal talamo dall'occhio deprivato e dall'occhio aperto e vedete che c'è una ristrutturazione drammatica vedete l'occhio aperto si espande le fibre corrispondenti all'occhio aperto si espandono mentre quelle dell'occhio debole si restringono. Quindi un modellamento veramente drammatico. Questo sì nel periodo critico e infatti diciamo prima di definire bene il periodo critico volevo riportare alcuni esperimenti di come in realtà viene misurata l'acuità visiva. Vi ho fatto vedere prima queste curve di aumento dell'acuità visiva queste curve rosse ma uno può chiedersi come viene misurato effettivamente il problema si pone in particolare in un bambino perché chiaramente possiamo fare la tavola ototipica in un adulto ma non in un bimbo piccolo e questa tecnica riporto diciamo volentieri anche per motivi storici perché sono esperimenti condotti qui a Pisa da Adriana Fiorentini e Lamberto Maffei la tecnica del preferential looking c'è un bambino tenuto in braccio dalla madre vedete osserva due monitor sulla sinistra vengono proiettate in questo caso delle barre bianche e nere che si alternano sulla destra invece c'è uno stimolo alluminanza uniforme un grigio uniforme se il bambino percepisce il reticolo spende diciamo più tempo osservando appunto il monitor nel quale il reticolo viene proiettato e quindi è possibile calcolare appunto il tempo che il bambino spende guardando l'uno o l'altro monitor quello che viene fatto poi in ogni sessione è di andare a restringere la grandezza di queste barre vedete com'è qua quindi si fa vedere prima un reticolo diciamo a grana grossa poi progressivamente le barre vengono ridotte la frequenza spaziale viene aumentata si dice in gergo tecnico e quindi cosa succede? che quando il reticolo diventa così fine che il bimbo non è più in grado di percepirlo osserverà diciamo il 50% del tempo il monitor di stimolo il monitor diciamo di luminanza uniforme quindi in questo modo è possibile determinare anche in un piccolo l'andamento temporale dell'acuità visiva e qui vedete curve di vari studi che riportano proprio questa salita dell'acuità visiva nello sviluppo questo è possibile farlo anche nel topo vi faccio vedere questo corrispettivo è possibile in pratica condizionare il topo vedete questo è un labirinto a Y quindi il topo parte per esempio dalla base in basso e poi viene presentato con due monitor c'è una parete divisoria e viene proiettato mettato ancora una volta il reticolo da una parte dall'altra lo stimolo di luminanza uniforme il topo può essere condizionato ad andare dove c'è lo stimolo con un reward di qualche tipo quindi una ricompensa del cibo un pellet di cibo del latte quindi l'animale viene condizionato e questo viene condizionato quando il reticolo diciamo è a barre grosse a bassa frequenza spaziale poi nella stessa sessione possiamo andare progressivamente a ridurre la dimensione delle barre quindi rendere il compito di discriminazione sempre più difficile e arrivare anche in questo caso alla soglia quando l'animale a soglia andrà a caso al 50% a destra al 50% a sinistra non vi ho detto ma è importante che l'ordine diciamo di presentazione viene randomizzato destra a sinistra in modo da non dare dei bias specifici quindi viene presentato in maniera random a destra o a sinistra ecco c'era una domanda sul periodo critico e il periodo critico è cruciale una volta la rimozione della cataratta veniva procrastinata dopo il periodo per esempio addirittura periodo per esempio adolescenziale perché si diceva il bambino è piccolo non operiamolo però questo in realtà era deleterio perché qui vedete per esempio un bambino in questo caso parliamo di cataratta congenita bilaterale quindi nessun tipo di esperienza visiva vedete che il bambino all'età di 10 mesi circa il bambino grigio ha un'acuità visiva che praticamente è uguale a quella della nascita l'acuità visiva non si è sviluppata per nulla quello che accade se avviene la rimozione della cataratta che l'acuità comincia a salire comincia l'interazione con l'ambiente alla fine il bambino recupera un'acuità visiva normale cosa che non accade invece quando in questo soggetto mm vedete è stato operato in età tardiva quindi fuori dal periodo critico ci sono tre misurazioni di acquità visiva vedete che la sua acquità visiva rimane purtroppo molto molto bassa quindi questo ci dice che sia una finestra ben specifica nella quale è necessario intervenire e recuperare una visione normale se questo non avviene permane una traccia deleteria perché l'acuità visiva non si sviluppa e quindi il soggetto rimane in qualche modo cieco con delle performance di discriminazione visiva molto povere per anche se poi l'ottica è stata resa in qualche modo trasparente quindi non è tanto un problema diciamo di percezione a livello retinico ma è proprio che la corteccia non ha avuto le istruzioni necessarie per svilupparsi correttamente stessa cosa nell'animale nell'animale questo si fa in maniera la totale assenza di esperienza visiva si può fare per esempio tenendo i topolini in una stanza che sia completamente buia dove non c'è mai la luce fin da quando nascono quindi questo elimina completamente ogni tipo di esperienza sensoriale e quello che vedete anche nel topo abbiamo visto c'è questa maturazione dell'acuita visiva vedete che se si prendono gli animali allevati nelle normali condizioni di luce buio o all'oscuro c'è una forte differenza di acquità visiva vedete che nel controllo l'acuita visiva matura normalmente nell'allevato al buio rimane un'acuita visiva del diciamo simile a quella del topo appena nato appena l'animale stesso ha aperto gli occhi e nell'animale è possibile andare a vedere anche il correlato cellulare cioè possiamo studiare per esempio le cellule della corteccia visiva e andare a valutare quelle che sono le dimensioni del loro campo recettivo il campo recettivo è quell'area dello spazio visivo che si è stimolata per esempio con delle barre di luce produce una variazione della frequenza di scarica del neurone stesso vedete che c'è una notevole differenza nella dimensione dei campi recettivi tra il piccolo e l'adulto nell'adulto i campi recettivi sono molto più piccoli campi recettivi piccoli vuol dire che facciamo un campionamento più dettagliato più preciso dello spazio quindi la risoluzione spaziale aumenta e questo è correlato con la maggiore acuita visiva vedete che questa maturazione con la riduzione delle dimensioni dei campi recettivi non avviene assolutamente in un adulto che ha avuto un'assenza totale di esperienza visiva che è stato tenuto al buio quindi questo è il correlato cellulare dell'acuita è un po' come diciamo avere un campionamento con una macchina fotografica con una matrice diciamo più grosso una matrice più piccola sì sì a seconda sì a seconda delle nicchie ci sono non so chiaro che alcuni animali che si sono adattati a questo tipo di vita hanno anche le strutture periferiche vestigiali non so pensiamo alla talpa o qui praticamente la il senso diciamo in qualche anche lo spazio corticale dedicato al processamento dell'informazione visiva viene drasticamente ridotto a seconda appunto della specifica della specifica nicchia ecologica certo ecco finora vi ho fatto tutti esempi in qualche modo di deprivazione quindi di rimozione dell'esperienza sensoriale ma uno potrebbe chiedersi ma possiamo in qualche modo modulare in positivo la maturazione dei circuiti corticali e un esperimento che è possibile fare nell'animale è quello del cosiddetto ambiente arricchito per chi ha esperienza con la vita di laboratorio sa che i nostri animali sperimentali i topi normalmente vengono alloggiati nelle gabbie indicate in A quindi sono gabbie in cui ci sono due tre individui relativamente piccole e quindi sono condizioni diciamo quelle che definiamo condizioni standard di allevamento nel laboratorio è possibile rendere in qualche modo più naturalistica o più diciamo attraente questa questa stabilazione aggiungendo per esempio nell'ambiente un sacco di giochi per cui rendere per esempio introdurre delle ruote per fare attività fisica volontaria dei labirinti far vivere questi animali in gruppi sociali più ampi in modo da favorire i fenomeni di socializzazione quindi questo chiaramente fornisce un livello di stimolazione sensoriale molto maggiore rispetto alle condizioni standard quindi uno si può chiedere ma in queste condizioni in qualche modo in cui forniamo una stimolazione sensoriale aggiuntiva c'è un effetto sulla maturazione della funzione visiva e dell'acuita visiva e gli esperimenti hanno dato questo esito vedete che negli animali arricchiti in realtà la curva di maturazione dell'acuita visiva è shiftata verso sinistra questo significa che l'acuita visiva matura prima matura più precocemente in realtà i livelli finali di acquità visiva non sono diversi e questo è dovuto al fatto che comunque l'acuita visiva ha poi un limite fisico che è dato da vari fattori sia ottici che neurali per esempio il mosaico dei coni però vedete che la maturazione corticale avviene a un rate decisamente più accelerato negli animali allevati in ambiente arricchito e ancora una volta questo si trasla in qualche modo all'uomo volevo riportarvi qui i risultati di un esperimento che ritengo molto interessante che è stato fatto proprio dall'istituto di neuroscienfe del CNR qui di Pisa in collaborazione con la Stella Maris su dei bambini nati prematuri questi bambini nati prematuri devono stare in ospedale per tutta una serie di diciamo di controlli e è stato studiato l'effetto di una stimolazione ambientale sotto forma di massaggio questi bambini venivano divisi in due gruppi questi bambini nati prematuri erano bambini diciamo meccati qui vedete una corte di dieci controlli e dieci massaggiati con lo stesso peso alla nascita e con la stessa diciamo età età gestazionale il gruppo massaggiato veniva sottoposto tre volte al giorno a questi massaggi delle varie parti del corpo in una stanza dove erano fornite anche musica in sottofondo quindi una stimolazione ambientale diciamo più ricca rispetto ai bambini di controllo e questa stimolazione ha avuto questo effetto sorprendente vedete a tre mesi misurando l'acuità visiva i bambini massaggiati hanno dimostrato un'acuità visiva superiore rispetto a quella dei bambini di controllo e un esperimento molto diciamo fortunato è stato questo la nascita per esempio di due gemelline identiche Valentina e Federica una è stata massaggiata e una no nel gruppo di controllo e qui diciamo chiaramente con i gemelli monovigoti eliminiamo qualsiasi effetto diciamo del background genetico e in queste due gemelline c'è stata una maturazione differenziale dell'acuità visiva quindi più accelerato qui sono tutti i parametri più accelerato nella bimba nella bimba massaggiata quindi c'è un effetto molto potente della stimolazione della stimolazione sensoriale in questo caso anche cross modale perché abbiamo una stimolazione tattile quindi che coinvolge il sistema somato sensoriale che impatta sulla maturazione della funzione visiva e come quindi ce lo possiamo spiegare quali sono i mediatori molecolari che possono spiegare questo effetto una teoria abbastanza attraente è quella che la stimolazione ambientale produca dei fattori neurotrofici dei modulatori che in qualche modo poi medino gli effetti dell'esperienza sulla maturazione dei circuiti corticali uno di questi mediatori è il fattore neurotrofico BDNF brain derived neurotrophic factor e qui vedete un esperimento in cui ancora una volta nel topo vedete nella colonna di sinistra tramite le tecniche dell'ingegneria genetica è stato prodotto selettivamente nella corteccia cerebrale vedete nella parte alta dove c'è più bianco una maggiore espressione di BDNF questo è un transgenico quindi che over esprime il BDNF rispetto al topo di controllo quindi ha più disponibilità di BDNF è stato mantenuto in condizioni standard e questo topo vedete cosa mostra quando si va a misurare l'acuità visiva in maniera longitudinale con questa tecnica del labirinto AY che vi ho descritto precedentemente vedete che hanno un'acuità visiva che matura più precocemente la curva verde quindi se vi ricordate il dato precedente ricorda molto quello che avevamo visto con i topi arricchiti ok quindi in qualche modo questo suggerisce questa similitudine suggerisce che proprio l'esperienza sensoriale agisca tramite la produzione e il rilascio di questi fattori neurotrofici questo è un esperimento ancora più convincente dimostra per esempio che in topi allevati all'oscuro in cui normalmente non c'è maturazione dell'acuità visiva ed è questo controllo qui quello in basso l'acuità visiva rimane bassa se noi alleviamo all'oscuro un topo che overesprime il BDNF la sua acuità visiva matura normalmente quindi in qualche modo diciamo la sovraespressione del BDNF è in grado di annullare completamente e di sostituire tra virgolette l'esperienza sensoriale quindi questo mediatore è veramente veramente cruciale ok stando al concetto di periodo critico periodo critico può essere visto in maniera e questo magari può essere uno spunto poi di discussione dopo per le domande può essere visto come sia un periodo di vulnerabilità abbiamo visto precedentemente se c'è un fiore frattivo se c'è una cataratta la visione da quell'occhio viene completamente alterata però è anche un periodo di opportunità perché in qualche modo che cosa consente? consente al sistema nervoso di adattarsi alle caratteristiche e agli stimoli che vengono riscontrati nell'ambiente che circonda l'organismo quindi l'idea è di fornire questa finestra di estrema plasticità in modo che l'organismo conosca il mondo conosca le caratteristiche fisiche alle quali è esposto e quindi moduli le funzionalità del suo sistema nervoso in modo da essere il più possibile adattato funzionale all'ambiente che è stato sperimentato in questa fase in questa fase precoce e vi faccio alcuni esempi di questo questa è una visione dall'alto della corteccia visiva corteccia visiva abbiamo già visto precedentemente contiene dei gruppi di neuroni che rispondono ai differenti orientamenti per esempio qui vedete in rosso i gruppi di neuroni che rispondono alle barre orientate orifrontalmente e vedete in verde per esempio i gruppi di neuroni che rispondono le barre verticali ok uno si potrebbe chiedere ma questa organizzazione era in condizioni normali qui sono stato fatto un esperimento vedete la linea tratteggiata qui ci sono il diciamo l'estensione di area corticale che risponde ai quattro orientamenti principali quindi verticale obliquo 45 gradi orizzontale e l'altro obliquo diciamo 135 gradi vedete che nelle condizioni di controllo la linea tratteggiata diciamo fanno ogni orientamento corrisponde a circa un quarto dell'area corticale il 25% quello che vedete sperimentale è una condizione in cui gli animali sono stati allevati dall'apertura degli occhi con barre per esempio di orientamento verticale zero gradi quindi vedevano diciamo nel loro periodo critico barre verticali che cosa osservate osservate che l'area dedicata all'orientamento verticale viene amplificata nella corteccia quindi in questi soggetti c'è più corteccia vedete 35% dedicata all'analisi di questo orientamento chiaramente a scapito degli altri orientamenti ma questo può essere pensato come valore adattativo perché in qualche modo nella finestra in quella finestra critica l'ambiente l'organismo impara che l'ambiente è fatto prevalentemente a strisce verticali e quindi adatta al suo sistema nervoso per rispondere ottimamente una volta adulto a quel tipo di ambiente simile esempio dalla corteccia acustica nella corteccia acustica non ci sono colonne di orientamento ma ci sono colonne quindi gruppi di neuroni qui vedete questi blob rossi e verdi che rispondono a delle frequenze specifiche dello spettro quindi vedete si va qui nel ratto da 1.75 kHz a 28 kHz e in una fase critica questi questi sono ratti esperimenti di Michael Merzenich negli Stati Uniti i ratti sono stati esposti piuttosto che diciamo a tutti i rumori possibili presenti nell'ambiente come gli animali di controllo sono stati messi in una camera anecoica e stimolati con una sola frequenza una frequenza specifica in questo caso intorno ai 7 kHz quindi la frequenza che qui era figurata con i colori verde e giallo e cosa vedete che quando questo gli animali vengono mappati poi da adulti hanno una maggiore rappresentazione proprio di queste frequenze cioè delle frequenze a cui sono stati esposti durante il periodo precoce vi ho segnato anche l'intervallo temporale nel quale questo funziona cioè la corteccia si rimodella in questo modo soltanto se la stimolazione sensoriale a 7 Hz viene fatta da 9 giorni a 28 giorni dopo la nascita P9 P28 se si va fuori da questa finestra critica l'esposizione al singolo tono non modifica la mappa la mappa corticale la mappa tonotopica quindi ancora una volta concetto di periodo critico quindi in questa fase questa fase precoce la corteccia è molto suscettibile agli ingressi ambientali e quindi si rimodella in modo da dare la massima rappresentazione dello stimolo predominante nell'ambiente che circonda l'organismo allora queste frequenze vengono già codificate a livello della coclea la coclea ha già un'organizzazione tonotopica quindi nel nostro orecchio allora queste sono delle rappresentazioni vi dovete immaginare l'esperimento in questo modo e nell'animale può essere aperta la corteccia cerebrale può essere fatto un esperimento di imaging come quello del calcio che vi dimostravo precedentemente per cui voi potete dare per esempio uno stimolo di varie frequenze potete dare il stimolo di varie frequenze e andate a visualizzare proprio con l'accensione come abbiamo visto prima con gli indicatori calcio per esempio delle cellule dei gruppi di cellule che rispondono alle varie frequenze in questo modo costruite la mappa e dite ok allora il gruppo di neuroni no è una frequenza sonora come falso colore sì 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 è falso colore cioè sono frequenze sonore ok nei pipistrelli sì nel pipistrello c'è diciamo il fenomeno aggiuntivo poi che diciamo per esempio nell'ecolocazione viene usato diciamo un po' il principio del sonar cioè vengono emesse onde sonore la cui ricaptazione guida diciamo la navigazione dell'animale nello spazio delle frequenze sì sì questa dell'organizzazione tonotopica un'organizzazione diciamo in qualche modo generale delle cortecce delle cortecce acustiche come dicevo prima parte già dalla coclea cioè la coclea questa struttura ricettiva nell'orecchio è una lamina la cui diciamo oscillazione viene appunto determinata dalle frequenze sonore incidenti appunto nell'orecchio e quindi questa questa diciamo suddivisione per frequenze della coclea viene trasferita poi a livello delle strutture superiori fino alla corteccia quindi questo gruppetto in pseudocolore ci dice che per esempio i neuroni nei blocchettini verdi sono neuroni che rispondono selettivamente alla frequenza 7 kHz frequenza sonora può essere modificata diciamo ora ci arriviamo facendo qualche esempio nell'adulto perché la professoressa alla tua lezione ci ha detto che Platone diceva che la memoria nel tuo campo è come cioè di premere nell'agilla in una tavoletta di cera e quindi lasciare di soli che sono perché io volevo sapere insomma se era possibile cioè se c'era una correlazione ci sono delle tracce sì sì questo è vero per esempio vi ho fatto vedere prima l'immagine delle l'immagine delle spine dendritiche rimane come diciamo tra virgoletto misteri sì rimane una traccia questo è stato visto per esempio è esperienza comune che se abbiamo per esempio giocato a tennis nell'età diciamo nel nostro periodo critico poi in qualche modo torniamo a giocare a tennis dopo vent'anni siamo diciamo in qualche modo reimpariamo meglio quindi come se il circuito avesse mantenuto una una traccia di questo di questo apprendimento e questa esperienza comune questo è stato visto è stato visto proprio con l'esperimento delle spine dendritiche vi ricordate queste protrusioni che vedevamo precedentemente ora ci arriviamo facciamo fare un altro esempio però è stato dimostrato che per esempio apprendere un atto motorio fa sì che in determinate cellule della corteccia motoria si creino delle modifiche appunto delle spine quindi si aggiungono per esempio nuove spine dendritiche quindi nuovi sinapsi tra i neuroni e queste sinapsi queste nuove spine diciamo persistono nonostante uno abbia interrotto l'allenamento quindi io interrompo l'allenamento vado a vedere lo stesso neurone quindici giorni dopo e trovo sempre quelle spine che si erano formate diciamo per l'apprendimento motorio avvenuto precedentemente quindi queste modifiche strutturali sembrano essere il substrato diciamo per questo effetto diciamo facilitatorio dell'esperienza precoce quindi sì rimangono senz'altro delle tracce assolutamente ecco qui volevo brevemente anche questo può essere uno spunto per la discussione successiva ora è chiaro che diciamo quindi gli ambienti i nostri stimoli gli stimoli che riceviamo plasmano il nostro cervello e quindi qua diciamo possiamo pensare a una società di tipo in qualche modo globalizzato dove i ragazzi per esempio diversamente da una volta ricevono stimoli molto molto simili molto molto comuni magari che ne so 40 50 anni fa un ragazzo che nasceva in Italia riceveva stimoli molto diversi da un ragazzo in Giappone in Cina o negli Stati Uniti ora diciamo la globalizzazione il web fa sì che gli stimoli siano molto molto simili quindi in qualche modo uno si può porre il problema se questo porti in qualche modo a un'omologazione in qualche modo visto che i cervelli sono scolpiti in maniera così potente dall'esperienza il fatto che ci sia una cultura massificata globalizzata può far sì che in qualche modo i cervelli diciamo vengano prodotti in serie un po' tutti uguali con le stesse caratteristiche fatte salve chiaramente le differenze genetiche di base diciamo di ciascuno e quindi qui viene fuori il discorso del cervello collettivo ho preso da un libro recente di Lamberto Maffei questa ricetta questo antidoto alla globalizzazione quindi creatività apertura capacità di non rimanere schiavi di ciò che la genetica ha stabilito per noi o che la comunicazione massificata ci vuole imporre questo può essere anche uno spunto diciamo per l'insegnamento che magari lasciamo diciamo alla discussione successiva altri esempi di periodi critici qui siamo abbiamo fatto un esperimento di risonanza magnetica funzionale in cui si osserva l'area di Broca si va a visualizzare l'area di Broca e si vede la differenza diciamo sono soggetti bilingui ai quali viene chiesto di parlare nella lingua 1 o nella lingua 2 e la differenza è che in questo soggetto la lingua 2 è stata imparata da adulti questo è un diciamo madrelingua inglese che poi ha imparato da adulto il francese quando si fa l'imaging dell'area di Broca vedete che le due aree sono separate quindi questo vuol dire che per switchare da una lingua all'altra se il gruppo di neuroni non è lo stesso c'è bisogno almeno di una connessione sinaptica e quindi il tempo diciamo di switch da una lingua all'altra è rallentato cosa molto diversa vedete i due centroidi sono praticamente sovrapposti in un in un soggetto che invece ha imparato magari aveva diciamo padre e madre oppure è stato esposto molto precocemente anche diciamo alla seconda lingua e in questo caso vedete si ha una coattivazione dell'area di Broca altro esempio dal sistema motorio per esempio nella nostra corteccia motoria c'è una rappresentazione di tutte le parti del corpo qui è stata misurata l'estensione proprio l'area corticale che è dedicata alla mano sinistra ed è stato paragonato all'estensione di quest'area vedete in soggetti normali che sono quelli blu o in violinisti che quindi diciamo usano chiaramente in maniera molto allenano in maniera drammatica la mano sinistra e vedete che c'è un'area prima di tutto osserviamo che è molto maggiore nei violinisti rispetto ai soggetti di controllo ma l'altra cosa interessante è che l'area dedicata alla mano sinistra è tanto più grande quanto più precoce l'inizio della pratica musicale cioè i bambini che hanno cominciato a 4 o 5 anni a suonare hanno una rappresentazione corticale della mano che è molto più grande rispetto a quella dei colleghi che hanno iniziato più tardivamente e questo chiaramente può voler dire anche più corteccia dedicata vuol dire più neuroni che processano la stessa informazione quindi un miglioramento del rapporto sinale rumore e quindi delle performance altro esempio durante la plasticità durante lo sviluppo la plasticità può arrivare a essere cross modale e questi sono soggetti ciechi dalla nascita anche lì è nostra esperienza comune che i soggetti ciechi abbiano migliori capacità di detezione per esempio di stimoli uditivi o di stimoli tattili e quindi cosa possiamo pensare possiamo pensare che queste migliori capacità da cosa derivino derivino dal fatto che in qualche modo la corteccia visiva che non è utilizzata in questi soggetti venga reclutata reutilizzata per il processamento delle altre informazioni sensoriali e questo è un esperimento sempre di risonanza magnetica funzionale in cui vedete un soggetto normale a sinistra che legge il braille quindi la scrittura per i ciechi e c'è la normale attivazione della corteccia somatosensoriale della corteccia tattile corrispondente alla mano che legge nel caso invece del soggetto cieco dalla nascita vedete che c'è un secondo focolaio di attivazione che è una corteccia occipitale quindi in qualche modo durante il compito tattile viene reclutata anche la corteccia visiva ma uno potrebbe dire questo è importante a livello funzionale sì è importante perché è stato condotto un esperimento in cui durante la lettura del braille nel soggetto cieco dalla nascita con la tecnica che vi dicevo prima della stimolazione magnetica transcranica ripetitiva quella inibitoria è stata inibita la corteccia occipitale quindi il soggetto faceva il compito di lettura del braille con la corteccia occipitale inattivata e questa inattivazione riduceva significativamente le performance quindi significa che non c'è solo un'attivazione non è un epifenomeno questa accensione diciamo dell'area occipitale ma è qualcosa che è veramente importante perché il compito venga eseguito in maniera corretta questo è un altro esperimento diciamo interessante sempre nell'ottica delle tracce cioè tracce che possono essere lasciate da piccoli e che poi in qualche modo ci portiamo dietro per tutta la nostra esistenza questo è un esperimento molto famoso addirittura qui parliamo di cure materne quindi effetti diciamo proprio molto precoci è osservazione sperimentale che ci sono ceppi per esempio diversi di ratti o di topi in cui le mamme forniscono differenti livelli di cure parentali diciamo ci sono le mamme buone diciamo in certi ceppi o le mamme chiamiamole degenerate diciamo in un altro ceppo che danno magari meno cure parentali le chiamiamo leaking grooming perché fanno massaggio leccano i piccoli e è stato osservato che piccoli che nascono da femmine diciamo madri in qualche modo poco attente alla cura della prole sono da adulte più ansiose e forniscono in se stesse meno cure alla loro prole e questo non è una cosa genetica perché se voi prendete per esempio dei piccoli nati da mamme diciamo degenerate tra virgolette ma le date si chiama cross fostering le date diciamo in adozione delle mamme buone in qualche modo questi piccoli che vengono diciamo stimolati adeguatamente sebbene fossero del ceppo diciamo cattivo quando sono adulti si comportano da mamme buone quindi hanno in qualche modo qualcosa che gli viene scritto durante la fase di cure parentali e questo aspetto è stato studiato è stato studiato in dettaglio quindi uno cerca di capire qual è la traccia che rimane nei circuiti per quanto riguarda l'ansia in particolare è ben noto vedete uno stimolo stressogeno attiva l'asse ipotalamo ipofisario quindi si ha produzione per esempio di glucocorticoidi cortisolo da parte della corteccia surrenale questo trova dei recettori a livello ipocampale a livello ipocampale l'ipocampo a feedback negativo blocca la risposta stressogena a livello dell'ipotalamo quindi è chiaro che maggiore la concentrazione di recettori per il cortisolo per i glucocorticoidi nell'ipocampo più efficiente la diciamo la chiusura il feedback negativo di questo circuito ed è stato osservato nell'animale che alti livelli di cure parentali provocano rilascio di serotonina in ipocampo di questo neuromodulatore e questo provoca l'attivazione della trascrizione dei recettori per i glucocorticoidi tramite un meccanismo di acetilazione degli stoni in pratica quando il dna ha questi stoni acetilati è un dna in qualche modo più permeabile più trascrivibile quindi se noi andiamo a mettere questi marker epigenetici acetilazione degli stoni su queste regioni del dna che codificano per i recettori per i glucocorticoidi la loro espressione sarà maggiore a livello ipocampale quindi avendo una maggiore espressione dei recettori per i glucocorticoidi questo circuito viene chiuso questo feedback negativo funziona in maniera più efficiente e quindi c'è una risposta con minore ansia a uno stimolo a uno stimolo stressogeno e quindi la traccia che viene lasciata proprio dalle cure parentali dalle cure materne è questa acetilazione degli stoni e quindi questo marker epigenetico ben preciso ed è interessante c'è un farmaco vedete che si chiama tricostatina tsa questo verde che è in grado di convertire un dna chiuso un dna aperto un dna più acetilato con gli stoni più acetilati e somministrando diciamo a delle mamme chiamiamola ancora una volta cattive degenerate questo farmaco è possibile in qualche modo aprire il dna a livello di queste regioni e promuovere quindi una trascrizione maggiore dei recettori per i glucocorticoidi e quindi andare a correggere diciamo farmacologicamente questo difetto e questa reazione diciamo eccessiva agli stimoli stressogeni quindi tracce epigenetiche quindi scritte nel nel genoma sugli stoni in realtà in queste questo periodo molto precoce che poi si traslano influenzano il nostro comportamento in età adulta ora una visione molto generale era quella che è molto dogmatica era quello che il periodo critico una volta chiuso in qualche modo fosse reversibilmente la plasticità fosse reversibilmente bloccata ora questo in realtà non è vero anche il senso comune ce lo dice perché comunque anche da adulti siamo in grado di imparare cose nuove quindi i nostri neuroni di ricordare di dimenticare quindi comunque il cervello è una struttura dinamica è chiaro che la malleabilità del del tessuto è molto diversa dal periodo critico all'adulto ma non c'è un fattore diciamo assoluto di di chiusura del periodo critico quindi ora vi presenterò brevemente in ultimi cinque minuti qualche esempio di plasticità indotta anche nell'adulto e partendo per esempio dalla mappa somato sensoriale qui c'è la rappresentazione della superficie corporea vedete che è una rappresentazione disproporzionata certe aree la lingua la bocca le mani sono più rappresentate rispetto per esempio al tronco o ad altre parti del corpo per cui viene fuori questo omunculus che come vedete è molto diverso dal dal david con le sue proporzioni perfette però quello che ci interessa in questo contesto che quindi ci sono delle aree che possiamo identificare nella corteccia la somato sensoriale nella corteccia tattile che si attivano quando stimoliamo specifiche parti del corpo quindi per esempio vedete in alto la rappresentazione delle cinque dita uno, due, tre, quattro, cinque per esempio con tecniche che possiamo diciamo come quelle che abbiamo visto precedentemente quelle del calcium imaging o diciamo tecniche standard anche di registrazione elettrofisiologica in questo esperimento molto famoso delle scimmie venivano allenate a girare un disco a fare un compito da adulte con l'indice e il medio quindi si allenavano varie ore diciamo alla settimana in questo compito che coinvolgeva soltanto le due dita il secondo e il terfodito e vedete che la mappatura nello stesso soggetto fatta dopo l'esercizio dimostra che le dita stimolate si espandono espandono la loro rappresentazione corticale rispetto a quelle non stimolate un altro grande esempio di plasticità è quello venuto fuori dagli studi di Ramachandran l'artofantasma questo fenomeno per cui negli amputati quelloro che hanno perso per un incidente un braccio continuano in qualche modo a sentire vividamente l'esperienza del fantasma anche se questo non è più presente come si spiega questo? Ramachandran questo neurologo fece degli studi in cui praticamente vedete questo è un soggetto che ha un braccio amputato semplicemente stimolando questa parte della guancia con un tampone e chiese appunto al soggetto che era stato amputato di recente cosa ti sto toccando? il soggetto era bendato il soggetto rispondeva mi sta toccando la guancia ma mi sta toccando anche l'artofantasma e vedete che c'è una seconda rappresentazione dell'arto mancante anche sulla guancia vedete delle dita e un'altra rappresentazione rappresentazione nel moncone qui sulla spalla quindi una diciamo una questa rimappatura drammatica come si spiega questo? allora quando avviene questa amputazione le afferenze sensoriali non arrivano più quindi rimane un'area questa che abbiamo visto che si situa area de afferentata che rimane priva di ingresso sensoriale ora cosa succede? questa area non rimane silente ma viene invasa vedete nei pallini sulla destra dalle aree adiacenti se vi ricordate dall'omunculus precedente vicino alla mano c'è proprio la faccia e c'è la spalla quindi la rappresentazione della faccia e della spalla in qualche modo diciamo occupano vanno ad occupare queste aree corticali che sono rimaste silenti ok? per cui quando andiamo a stimolare appunto la spalla o la guancia attiviamo indirettamente anche quei neuroni che una volta al soggetto segnalavano la mano mancante per cui fanno sentire vividamente al soggetto la presenza della mano anche se questa non è più presente perché in realtà non è più presente l'arto ma è presente la rappresentazione corticale di quest'arto che è stata invasa colonizzata da altre afferenze questa la saltiamo voglio raccontarvi qualche dettaglio di questo esperimento un esperimento pubblicato alla fine del 2015 molto bello che vi dice il livello di dettaglio di finezza al quale si può diciamo arrivare con le moderne tecniche di indagine abbiamo già detto precedentemente che quando apprendiamo un nuovo compito motorio il nostro cervello si modifica e possiamo vederlo con le tecniche precedenti per esempio con le spine dendritiche quello che hanno fatto questi autori è proprio insegnare dei topolini a stare su un cilindro che ruota vedete in basso c'è un cilindro che ruota con una certa accelerazione e il topo diciamo impara a stare in equilibrio quindi i primi tempi cade e poi riesce a stare in equilibrio per sempre maggiore tempo quindi il nostro parametro di apprendimento è il tempo in cui l'animale riesce a stare in equilibrio sul cilindro avendo questi neuroni marcati nella corteccia motoria i ricercatori hanno potuto andare a identificare vedete prima dell'apprendimento guardate pure la colonna diciamo di destra dove c'è scritto memory probe vedete che prendendo un segmento dendritico c'erano quelle 1 2 3 4 5 6 7 8 spine vedete alcune più filiformi altre un pochino più grosse dopo l'apprendimento after learning vedete si sono formate delle nuove spine sempre nella colonna di destra vedete quelle verdi in realtà una spina diciamo sottile è diventata grossa e si sono aggiunte due nuove spine quindi c'è stata questa modifica strutturale in parallelo con l'apprendimento il learning cioè prima l'animale stava per 200 secondi sul cilindro il cilindro parte piano poi progressivamente accelera alla fine dell'apprendimento ci stava per 400 secondi ok quindi c'era questo apprendimento in parallelo la struttura dei neuroni si era modificata quello che poi hanno potuto fare questi autori avevano un trucco particolare per cui illuminando quest'area corticale sono stati in grado di tra virgolette uccidere o andare a potare diciamo selettivamente quelle nuove spine che si erano formate quindi vedete che le spine verdi con questa con questa tecnica con questa diciamo si chiama sinaptic optogenetic vedete che le spine che erano state create nuove sono state potate questi nuovi rami diciamo sono stati tagliati e la cosa fantastica è che diciamo tagliando queste tracce questi nuovi rami vedete nella curva verde in basso memory probe vedete che l'apprendimento viene completamente revertito cioè l'animale disapprende ciò che aveva acquisito quindi in questo modo diciamo si fa vedere che queste modifiche strutturali non sono soltanto un epifenomeno ma diciamo sono cruciali perché rimanga proprio questa traccia questa traccia dell'apprendimento motorio va bene ok sì sì ora parte di domande ho chiuso la presentazione quindi non so se grazie 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 Il controllo veniva fatto sempre l'apprendimento e veniva illuminato, però diciamo il trucco lì è inserire in questi due problemi. Deve da un lato visualizzare queste spine, quindi ci deve essere un colorante tipo GFP in questi neuroni. In più ci deve essere un qualcosa che una volta illuminato dalla luce va a spegnere selettivamente queste nuove sinapsi. Quindi gli autori hanno fatto vari tipi di controllo, però per esempio un controllo molto semplice può essere quello di avere un topo in cui c'è solo il colorante, quindi la stimolazione luminosa in qualche modo non produce questa retrazione delle spine e in quel caso solplicemente illuminando con la luce non c'è il substrato che fa retrarre le spine e quindi la performance rimane a livello standard. Gli autori hanno fatto anche un altro esperimento diciamo più complesso in cui hanno indotto per esempio l'apprendimento di un altro task motorio che faceva diciamo nascere nuove spine, hanno distrutto queste diciamo spine dell'apprendimento motorio numero due e hanno dimostrato che questo non inficciava diciamo la risposta al primo apprendimento. Grazie Volevo capire se la transacetilazione degli stoni che viene come fenomeno naturale ha le stesse caratteristiche o meno di quella indotta col TSA? In realtà no, nel senso che il trattamento farmacologico è un trattamento molto più specifico perché è chiaro che diciamo in condizioni naturali vengono acetilati degli stoni in posizioni particolari sul genoma. Quello che può essere fatto per ora col trattamento farmacologico è un'attivazione in qualche modo generalizzata che quindi in qualche modo non è il modo migliore di operare perché potremmo pensare che dia effetti collaterali perché per esempio se andiamo a diciamo liberare l'espressione che ne so di oncogeni in qualche modo abbiamo un effetto magari teratogeno o deleterio quindi una delle sfide è proprio quella di trovare diciamo delle modalità di intervento per cui questi fenomeni di regolazione dell'espressione genica siano estremamente targettati e con questo farmaco no, non è possibile farlo perché è una diciamo agisce a livello di tutte le regioni teoricamente di tutte le regioni genomiche. Quest'ultimo esperimento che si è visto, quello delle spine che venivano potate e poi spariva l'apprendimento mi fa venire in mente il famoso lavaggio del cervello degli agenti segreti che in esso ci può essere tra il lavaggio del cervello e questa potatura farmacologica? Ma diciamo il lavaggio del cervello, non so se pensiamo all'elettroshock in qualche modo quello è un effetto molto potente perché come dicevamo prima l'attività scolpisce i circuiti quindi sediamo dei treni di attività ad alto a bassa frequenza modifichiamo in maniera molto rapida e molto efficiente le connessioni quindi questi fenomeni per esempio possiamo pensare tipicamente una stimolazione ad alta frequenza un treno ad alta frequenza induce un potenziamento un treno a bassa frequenza induce una depressione quindi in qualche modo queste correnti, questi treni vanno a impattare su quella che è la circuiteria basale e si fanno un po' diciamo un effetto di lavaggio se vogliamo inducendo nuovi fenomeni plastici quindi perdita o acquisizione di nuove connessioni vanno a in qualche modo interrompere o disturbare quello che è il normale wiring cerebrale quindi sono effetti molto potenti l'attività come abbiamo visto è in grado di modulare in maniera molto molto rapida la connettività nervosa quindi sì, mi aspetto che possano avere degli effetti proprio drammatici sulla connettività non è il caso per la stimolazione magnetica transcranica perché sono dei pulse diciamo molto piccoli, molto contenuti temporalmente e questi è stato visti ad un effetto transitorio e posso fare... prego scusate sempre rimanendo sulla stimolazione corticale è ipotizzabile una modificazione, cioè un'induzione della stimolazione a distanza anziché con un macchinario posto a breve distanza? potrebbe avere un effetto proprio nella modificazione a distanza? ma diciamo lì la prossimità è cruciale la prossimità è cruciale, anfi, ci sono tutta una serie di problematiche legate per esempio all'orientamento stesso del campo magnetico e se pensate diciamo la corteccia umana circonvoluta è chiaro che all'interno di un solco per esempio lo stesso flusso diciamo del campo magnetico oppure un campo elettrico può attivare in maniera diversificata i neuroni a seconda della loro posizione spaziale quindi ecco ci sono già tutta una serie di problematiche con la somministrazione diciamo locale, quindi con il probe posto sullo scalpo poi ci sono tutta una serie di tecniche per cui questa stimolazione può essere più focale o meno focale però ecco pensare a qualcosa a distanza secondo me avrebbe un effetto comunque in qualche modo troppo grossolano che coinvolgerebbe diciamo in qualche modo tutte le aree cerebrali mentre invece uno dei punti cruciali qui è proprio quello di andare proprio a targhettare selettivamente un'area cerebrale specifica domande allora adesso io ritornavo sul discorso della metilazione degli stoni che l'esperienza precoce durante i primi periodi della vita produce questa trasformazione nel DNA mi ricordo di aver letto un articolo abbastanza recente dove le esperienze dei genitori si trasmettono nella prole addirittura da padre a figlio cioè dei padri topo abituati a reagire a un suono, un fischio acuto i figlioli si spaventavano cioè in automatico rispondevano a questo stimolo quindi è una metilazione si parlava anche lì di metilazione degli stoni è un apprendimento che si trasmette negli spermatozoi per via genetica e rimane poi nella prole è così la plasticità lì va a farsi friggere ma diciamo di questo diciamo articolo della trasmissione tramite non so se Antonino sa qualcosa diciamo che può intervenire meglio di me perché io non ho solo sentito parlare molto vagamente non ho letto diciamo non ho letto il lavoro il lavoro originale è chiaro che qui nell'esperimento che ho dimostrato c'è un substrato molto chiaro c'è una stimolazione tattile che quindi in qualche modo abbiamo un primum movens che in qualche modo diciamo è in grado di spiegare come questa traccia diciamo se il piccolo possa portarsela dietro riceverla in qualche modo dal comportamento della madre e poi trasferirsela nell'età adulta risposta agli stimoli stressogeni in questi comportamenti ansiosi ora questo dello spermatozoi diciamo l'ho sentito solo vagamente non so se Antonino sì c'è un allora questo si chiama Transgenerational Epigenetic Inheritance è un campo su cui c'è un po' di letteratura molto sparsa molto discussa ovviamente molto dibattuta e questo articolo in particolare è un articolo di forse un annetto fa un paio di anni fa in cui in realtà lo stimolo era uno stimolo olfattivo e tuttavia sì come si dice la giuria è ancora molto aperta perché insomma qui si parla di cose più diciamo che agiscono su alcune cellule circuito ben definite insomma più controllate diciamo così però sì l'articolo è stato pubblicato ma spesso non è sufficiente si attendono ancora conferme perché sembra un po' è un po' diciamo un po' il metodo la scienza è costellata la storia della scienza è costellata di osservazioni in attesa di conferma però se sì no no ma diciamo così il sì va bene comunque e va bene allora ancora una domanda e poi chiudiamo e andiamo al le volevo chiedere esperienze negative a livello fetale per esempio un comportamento della madre per esempio assunzione di sostanze oppure che poi attraverso la placenta possono attraverso questo è un argomento diciamo di grande di grande interesse noi per esempio abbiamo studiato di recente il ruolo diciamo di farmaci gabaergici no per esempio pensiamo non so alle madri per fattori come che ne so depressione oppure anche alle volte cause più gravi crisi epilettiche quindi somministrazione di farmaci gabaergici durante la gravidanza e ci sono diciamo degli effetti poi proprio long lasting una cosa che non ho affrontato è il fatto che in realtà l'attività è importante noi abbiamo vista diciamo ve l'ho descritta soltanto dalla nascita diciamo in avanti in realtà anche diciamo questa cosa si estende anche al periodo embrionale cioè i neuroni sono già attivi in realtà nel periodo embrionale e questa attività che viene definita spontanea spontanea nel senso non che ha dei generatori specifici ma non viene triggerata guidata dall'ambiente viene guidata indirettamente dall'ambiente sempre mediata attraverso la madre ma questo ha un impatto molto ha un impatto molto importante l'impatto farmacologico voglio ricordare anche per esempio che dei piccoli per esempio alle volte vediamo delle differenze nell'animale anche per esempio se la madre è arricchita durante la gravidanza cioè il fatto stesso diciamo di essere nati non in un ambiente arricchito in un ambiente standard ma che la madre sia stata durante la gravidanza in un ambiente arricchito impatta poi per esempio le performance cognitive o la risposta agli stimoli stressogeni l'ansia più avanti nell'età adulta quindi sicuramente quello è un periodo di estrema vulnerabilità tra l'altro in cui per esempio il GABA il classico neurotrasmettitore inibitorio ha un effetto eccitatorio per esempio nel feto e nei primi mesi di vita post natale anche nell'uomo quindi diciamo ciò che magari è inibitorio o ha un effetto diciamo antidepressivo o rilassante per la madre ha un effetto invece eccitante per il feto e quindi questi sono tutti aspetti da tenere assolutamente sotto controllo grazie allora sicuramente abbiamo molteplici spunti di grandi domande e questo ci piace e quindi adesso andiamo al coffee break 20 minuti massimo tornate entro 20 minuti senza che necessariamente poi vi chiameremo ma insomma possibilmente un ritorno spontaneo intanto cominciate a pensare e a parlarvi tra di voi e utilizzate questo questo tempo per cominciare a organizzare dei gruppi delle domande che vi frullano in testa grazie è vero l'area corticale è limitata quindi chiaro che se dedichiamo più area corticale a un certo compito diciamo rischiamo di sottrarla a un'altra funzione e in una delle slide che non ho mostrato c'era l'esempio di questa specializzazione nei tassisti nei tassisti londinesi in uno studio di risonanza magnetica è stato visto che l'ippocampo posteriore quello deputato proprio alla memoria spaziale si ingrandiva a livello funzionale però a scapito dell'ippocampo anteriore quindi c'è in qualche modo un trade off però quello che vorrei sottolineare diciamo il discorso del potenziamento lo vedrei in un'ottica in qualche modo di diciamo di connettività cioè l'esperienza arricchita se vogliamo in termini generici è quello che può fare diciamo si alloca delle aree corticali diciamo a compiti specifici però lo vedrei molto in termini di network cioè creare in qualche un'esperienza arricchita in qualche modo crea un network che è più ridondante quindi essendo più ridondante un po' il principio del del world wide web no? che è stato creato storicamente per motivi militari no? per evitare che venissero che ci fossero diciamo rami collaterali che in qualche modo bloccassero diciamo fossero in grado di vicariare una funzione in qualche modo bloccata quindi qui si va poi al concetto per esempio di e sì 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 questo è vero questo è vero però il concetto diciamo di connettività di riserva cognitiva questo questo si applica cioè è stato visto faccio un esempio molto semplice è stato visto per esempio che uno studio riporto uno studio per esempio fatto in un gruppo di suore che è particolarmente diciamo probante le suore di Notre Dame queste erano vissute fate conto fino a tipo a vent'anni prima di prendere il velo diciamo in ambiti diversificati poi da 20 a 80 a 90 anni quelle che sono arrivate nello stesso ambiente quindi diciamo stesso tipo di cibo stesso tipo di esperienfe ed è stato visto significativamente che coloro che avevano avuto una vita diciamo intellettuale culturale cognitiva più ricca nell'età precoce erano quelle poi più resistenti in età tardiva all'insorgenza di demenze neurodegenerazione e quindi questo come si può interpretare si può interpretare col fatto che in qualche modo una stimolazione sì è vero ci sono dei limiti al potenziamento però una una stimolazione cognitiva superiore nelle fasi precoci possa portare alla formazione di più connessioni quindi una iperconnettività che in qualche modo poi viene utilizzata quando si cominciano a perdere neuroni e questo ne parlerà la prossima volta il professor Cattaneo c'è in qualche modo fenomeni vicarianti in qualche modo più efficaci in america la ricerca del genio l'iperstimolazione che poi in realtà ha dimostrato grossi decrementi rispetto a altre cose è un argomento sicuramente molto molto delicato capisco il punto cioè in qualche modo diciamo questo può portare sì da un lato anche la studio sperimentale per esempio ha cercato tramite manipolazioni genetiche di creare il topo super intelligente quindi con modificazioni genetiche ma questo può dare sì delle pressioni delle pressioni molto forti anche al bambino al giovane e quindi sì può essere sicuramente controproducente ed è un bilancio diciamo molto delicato appunto per un insegnante anche sovraccaricare ora di parlo proprio per esperienza diciamo anche personale a volte e volte anche con i figli o con diciamo i ragazzi che abbiamo che seguiamo in laboratorio e ci sono caratteri diversi ecco dico una cosa ovvia per voi insegnanti però ecco sicuramente il sovraccaricare il mettere diciamo in qualche modo troppo sotto pressione con una iperstimolazione un particolare tipo di caratteri può non essere completamente completamente positivo sì o rischioso sì sì salve senta prima si è parlato delle capacità di recupero nel caso di traumi facendo ecco un esempio dell'occhio pigro il mio discorso voleva essere la mia domanda sempre collegata a quella si è parlato delle finestre temporali noi tante come insegnanti ci troviamo tante volte nelle classi a dover cercare di modificare il nostro modo di insegnare nei confronti di chi ha dei disturbi specifici nell'apprendimento di SA ecco la mia domanda è questa qual è la finestra temporale e quali potrebbero essere poi gli interventi di recupero e le capacità di recupero di questi ragazzi se ci sono nella nella fascia d'età appunto che noi ci troviamo a fronteggiare quella dei 14 anni in su si ci sono degli studi sperimentali proprio per quanto riguarda per esempio i modelli murini non so di autismo di disturbo dello spettro autistico quindi mutazioni che sono state riscontrate nel bambino vengono trasferite nel topo e ci sono dei test applicabili nel topo per esempio test di socialità o altri tipi di test più cognitivi che permettono di definire un fenotipo diciamo autistico nel modello murino questo è un po' discurso perché chiaramente potete immaginare che alcune delle caratteristiche di questo fenotipo autistico sono prettamente umane però comunque in questi modelli uno degli studi che è stato fatto è stato lo studio proprio dei periodi critici quindi nell'ottica di dire a queste finestre sono alterate e la risposta è che sì sono alterate in termini di durata in termini di timing quindi sicuramente diciamo il substrato e anche la finestra temporale di modificabilità viene alterata viene alterata in questi per l'intervento prevoce da sicuramente dei produttori migliori sì i trattamenti diciamo che sono stati tentati nel modello murino diciamo si dividono in categorie per esempio un approccio è stato quello della diciamo della stimolazione un po' tipo all'ambiente arricchito ecco in qualche modo per fornire una formazione diciamo una stimolazione sensoriale ambientale motoria più ricca ci sono degli studi per esempio con abbiamo visto che questa stimolazione ambientale poi agisce tramite modulatori tramite fattori trofici uno dei fattori trofici importanti oltre al BDNF è l'insulin growth factor one tra l'altro questo è il vantaggio che passa alla barriera ematoencefalica quindi somministrato per via sistemica diversamente dal BDNF ha accesso alle strutture cerebrali quindi ci sono stati dei diciamo degli esperimenti molto soprattutto nel modello di sindrome di Rett mi vengono in mente una serie di studi nel modello murino in cui il trattamento sistemico con IGF1 aveva diciamo degli effetti benefici e quindi c'è stato un clinical trial che è partito credo proprio a Viareggio il professor Pini proprio sulla Rett sui bambini con mutazioni di MECP2 proprio con somministrazione di IGF1 un po' come vengono chiamati questi questi farmaci enviromimetici cioè in qualche modo che simulano o mimano gli effetti della stimolazione della stimolazione ambientale ecco però è un approccio come dire ancora molto grossolano e un po' empirico ecco io mi direi rispetto a questa domanda appena fatta che ha messo l'accento sulle finestre temporali che è una cosa che tu hai parlato molto e è venuto fuori un po' la cosa come se fossero delle finestre temporali molto fisse forse ti darei l'opportunità di accennare al fatto che queste finestre attraverso cui agiscono i periodi critici possono essere se stesse modulate e quindi anche in periodi al di fuori del periodo diciamo così fisiologico della finestra del periodo critico si possono avere forse questo penso che sia assolutamente importante cioè c'è una è un po' come diciamo quando c'è un ciclo a feedback per cui è difficile dissociare le due cose l'esempio classico che possiamo fare è quello dell'allevamento al buio abbiamo visto che se abbiamo una totale assenza di esperienza visiva il sistema rimane in qualche modo nella visione classica congelato perché? perché non ha istruzioni e questo fatto che non ha istruzioni cosa fa? non matura l'acuità visiva però il sistema rimane anche plastico proprio perché non ha esperienza visiva e quindi se voi prendete andate a calcolare il periodo critico in un animale allevato al buio trovate che in realtà è plastico anche da adulto è più cioè l'ottante al buio si supera la normale fase di periodo critico quando lo rimettete alla luce è nel suo periodo critico quindi c'è un feedback praticamente tra l'attività e la plasticità se vogliamo quindi possiamo pensare questa situazione dinamica appunto un bambino autistico che ha dei pattern di attività cerebrali diversi particolari questi impattano sulla finestra di plasticità per cui è un po' come diciamo dovremmo fare per un paragone neurofisiologico quando abbiamo il potenziale d'azione che in qualche modo vogliamo dissociare le conduttanze sodio dalle conduttanze potassio abbiamo questo ciclo di feedback e l'unico modo che vogliamo fare è clampare il neurone e tenerlo a un potenziale fissato è un po' un paragone simile nel senso che abbiamo una relazione diretta tra attività elettrica attività dei circuiti anche basale e plasticità per cui la finestra di plasticità è un po' una sliding diciamo si può muovere si può muovere nel tempo a seconda dell'attività dell'attività preesistente gli stessi e poi qui mi ricollego faccio diciamo sempre un paragone simile uno dei problemi per esempio che abbiamo con uno potrebbe dire uso anche tecniche di neuromodulazione queste sono state proposte per esempio come non sono non invasive la stimolazione magnetica transcranica per esempio però anche queste modifiche dicevo di ipereccitazione di certe aree corticali o di inibizione dipendono dalla storia precedente dell'attività cioè i neuroni e i circuiti corticali hanno un set point cioè se nella fase precedente sono stati molto eccitati sono in modalità diciamo depressione ok quindi uno stimolo che normalmente crea un potenziamento in quella fase lì crea una depressione quella che si chiama metaplasticità la plasticità della plasticità sinaptica quindi voglio dire che lo stesso stimolo diciamo che normalmente dovrebbe essere eccitatorio stimolante o neuromodulante può avere un effetto diciamo diverso a seconda del substrato neurale e della storia dell'attività neurale del network immediatamente precedente quindi con tutti questi diciamo cicli a feedback tra attività plasticità e metaplasticità questo che vi ho detto adesso diventa molto difficile trovare diciamo identificare esattamente dei protocolli terapeutici efficaci e col timing giusto o perlomeno non siamo in grado al momento il discorso diciamo del periodo critico sì quello che vi ho fatto vedere questa sovrapposizione dell'area di Brocoro lì non ci sono studi così dettagliati come nel visivo nell'ambliopia però si pensa che il limite diciamo superiore sia intorno ai 15 anni per questa diciamo colocalizzazione delle due aree quindi oltre ai 15 anni come dire la mappatura diventa indipendente da dove il linguaggio a parità di ambiente di stimoli cosa è che differenzia un bambino di due anni da un altro di due anni uno che parla un altro che continua a fare da 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 e che poi si dice parlerà questo non è non è facile diciamo rispondere quello che mi posso immaginare è che diciamo circuiti diversi possano maturare in soggetti diversi anche perché pensiamo bene abbiamo sempre diciamo nel quello che vi ho raccontato ho voluto mettere l'accento molto sulla modificabilità sulla plasticità dei circuiti però non ci dimentichiamo che c'è un substrato uno vocolo duro che fornisce proprio una cornice dei limiti invalicabili che è quello della struttura della struttura genica quindi sì vi ho fatto vedere il cervello è malleabile modulabile però ci sono dei constraint diciamo che non possono essere superati che sono quelli dati dalla struttura genetica dell'organismo quindi lì è molto difficile poi andare a dissociare cioè l'ambiente può fare qualcosa può stimolare può deprimere però diciamo sempre nell'ambito di questa di questa cornice e gli studi diciamo gli studi perfetti dal punto di vista sperimentale sono quelli sui gemelli monovigoti perché lì abbiamo lo stesso substrato genetico e quindi abbiamo per esempio possiamo valutare l'impatto che ne so questi gemelli separati alla nascita e che vivono magari in un ambiente chiamiamolo arricchito un ambiente impoverito e allora lì circa per esempio le misure fatte sul cui che non sono diciamo dimostrano che c'è una componente diciamo genetica ambientale circa 50-50 in qualche modo per cui ecco queste differenti curve di sviluppo possono essere dovute a fattori ambientali o proprio a programmi predeterminati genetici diversi nei diversi individui voglio sapere una cosa si è parlato quindi di plasticità soprattutto a livello di stimoli visivi uditivi probabilmente olfattivi motori e immagino anche cognitivi ecco la mia domanda è ad esempio nella fase io lavoro con ragazzi di 12-12 anni quindi una fase credo comunque al di fuori del periodo critico di apprendimento per i parametri che abbiamo visto fino adesso riferendomi ad esempio alla difficoltà che la maggior parte di loro hanno nell'apprendimento e nell'intuizione e nella matematica allora è possibile attraverso una diciamo una serie un iter che che le aiuti a stimolare determinati tipi di capacità cioè la maggior parte di loro ad esempio imparano a memoria cosa che ovviamente per chi è intuitivo va bene per chi non è assolutamente intuitivo è totalmente inutile questo tipo di plasticità può essere riscontrato anche nel caso di percorsi di apprendimento per materie scientifico soprattutto matematiche nel senso ci sono stati studi che hanno visto che in un determinato tipologia di apprendimento magari anche la capacità di connessione neuronale ora non uso i termini tecnici perché non li so però se c'è una possibilità per alcuni ragazzi che si dichiarano totalmente inetti alla matematica con sedute di apprendimento specifiche a migliorare le loro performance diciamo questo studi dettagliati sull'argomento non me ne vengono in mente ora devo dire che l'età che ha menzionato comunque è un'età diciamo direi sempre parecchio plastica perché comunque diciamo questi periodi critici in realtà quello della visione dell'ambliopia del recupero dura fino ai dieci anni però diciamo il linguaggio abbiamo visto l'apprendimento delle lingue è molto più tardivo quindi non è una fase comunque diciamo in qualche modo chiusa poi il discorso che abbiamo fatto precedentemente in qualche modo la visione non è più così dogmatica di una finestra che si chiude completamente c'è in qualche modo una plasticità residua no per quanto riguarda il percorso matematico no ho solo in mente diciamo studi di risonanza o di cose in cui specifiche diciamo disfunzioni non so la discalculia venivano mappate diciamo con alterazioni di specifiche aree cerebrali ovviamente il giro angolare però in linea teorica direi di sì nel senso che ci sono dei fenomeni di plasticità anche lì se fatti diciamo in età precoce veramente veramente imponenti non so pensiamo a pensiamo a bambini alle volte che hanno addirittura la rimozione dell'intero emisfero per esempio per motivi tumori oppure crisi epilettiche gravissime e c'è una rimappatura delle aree motorie addirittura dell'area di broca normalmente localizzata a sinistra dopo emisferectomia migra a destra quindi ecco è chiaro che anche lì siamo limitati dai substrati neurali però l'idea che sta secondo me emergendo sempre più negli ultimi anni è quella non di una visione diciamo locazionista in qualche modo delle funzioni ma un'idea diciamo diffusa in qualche modo per esempio vi ho detto prima l'esperimento della rimappatura l'esperimento della rimappatura uno può dire sì si formano nuove connessioni però alle volte la rimappatura si osserva in tempi così rapidi diciamo da rendere impossibile teoricamente sperimentalmente il fatto che si formino nuove connessioni quindi una visione più generale è che in realtà diciamo c'è una connettività molto profusa molto esuberante anche tra aree che normalmente non si dovrebbero parlare non so aree acustiche aree visive che però normalmente in condizioni normali queste connessioni diciamo tra aree non omologhe chiamiamole siano sotto soglia quindi non riescano a far sentire la propria voce una volta diciamo che c'è una lesione o c'è un intervento in qualche modo diciamo stimolante queste possono andare sopra soglia e farsi sentire quindi ecco una visione diffusa in qualche modo prevede ancora una volta che ci sia più spazio per vicariare funzioni perdute anche lì chiaramente entro certi limiti certi certi constraint scusate mi scuso correlatore con voi un inciso che vorrei rimanesse tra parentesi ma questa domanda mi ha fatto venire in mente che l'apprendimento della matematica è certamente legato anche all'insegnamento della matematica e ci stanno lavorando moltissimo in questa sede gli insegnanti di matematica dalla scuola primaria elementare in media con docenti molto bravi e in rete ci sono i video di queste lezioni che toccano proprio i punti sollevati dalla collega ecco si possono ritrovare però tutte quante in rete con i video e con le diapositive se non ci sono video ci sono le diapositive sul sito della normale e dell'Accademia dei Lincei quindi scusate chiusa parentesi una parentesi importantissima in modo meno preciso stavo per fare un commento anch'io che è l'insegnamento della matematica ma giustamente la professoressa Barsacchi ha sottolineato dove si studia e come si studia c'è prima qui una domanda e poi dopo allora lì io volevo sapere come neuroni specchio si possono inserire nella plasticità dell'apprendimento avete inserito la domanda? la domanda è come neuroni specchio se e come neuroni specchio si possa inserire nella plasticità e nell'apprendimento quindi capitolo neuroni specchio e poi qui questa è una bellissima domanda e diciamo so che qui per esempio posso dire forse qualcuno conosce questa questa esperienza vado vado qualcuno conosce l'esperienza della scuola Senfavvaino e comunque ah scusa e sì è importante è importante ora magari per chi non lo sa ho preso diciamo una lezione che faccio all'università e visto è anche un argomento sul quale stiamo cominciando a lavorare sia io che il professor Cattaneo quindi diciamo è particolarmente per noi diciamo un argomento un argomento importante non so se è possibile proiettare ci proviamo eccolo perfetto come sono stati definiti originariamente i neuroni specchio sono neuroni vedete che si attivano sia quando l'animale in questo caso fa un compito motorio per esempio prende un pezzo di cibo sia quando l'animale vede questo compito fatto da un dimostratore quindi la stessa cellula codifica sia l'atto motorio attenzione non è un movimento non è il muovere i muscoli in una determinata maniera è proprio un atto motorio è un movimento con un fine specifico per esempio prendere i bicchieri prendere la bottiglia quindi questo cosa significa che quando vedo l'altro fare un certo compito motorio ho diciamo al mio interno nella mia corteccia motoria una rappresentazione reale diciamo di ciò che sta avvenendo e questo è stato dimostrato essere vero anche per il versante emotivo cioè ci sono neuroni specchio motori ma ci sono neuroni specchio anche nel versante emozionale per esempio è stato dimostrato che c'è una regione che si chiama l'insula una regione che se osserviamo per esempio un soggetto che ha un'espressione di disgusto per esempio gli vengono fatte respirare odori di uova marce e noi stessi proviamo disgusto bevendo diciamo qualcosa appunto di sgradevole abbiamo una coattivazione di gruppi neuronali a livello di quest'area di quest'area cerebrale quindi è stato ipotizzato che i neuroni motori i neuroni specchio siano importanti per quanto riguarda il versante motorio per comprendere le azioni degli altri c'è più dibattito se questo si è associato anche al comportamento imitativo e molto importante anche la parte emozionale perché in qualche modo potrebbero mediare quei fenomeni di empatia quindi vedo un altro che piange mi immedesimo in quella situazione provo diciamo all'interno di me con lo stesso substrato neurale provo esattamente lo stesso tipo di esperienza quindi è chiaro che per in un ambito educativo questi argomenti hanno un'importanza un'importanza drammatica qui ci sono per darvi un'idea per esempio del fatto dell'atto motorio questo era un esperimento nel quale c'era il dimostratore quindi un appunto il ricercatore che mostrava diciamo faceva da dimostratore alla scimmia registrazione della corteccia motoria vedete c'è la mela quindi nel caso in alto a sinistra lo sperimentatore si protende verso la mela e il neurone scarica vede l'attività motoria se come nel caso in basso vedete si vede la mela poi si mette una tenda e lo sperimentatore fa il movimento in questo caso la scimmia non vede la presa la presa della mela ma sa che c'è la mela perché è stata fatta vedere precedentemente il neurone scarica lo stesso quindi è proprio la codifica la codifica del lato del lato motore e quindi dal punto di vista della presentazione della pedagogia questo ha implicazioni potentissime la comprensione dell'altro questo esperimento pure molto bello abbiamo parlato di autismo una per esempio è stato ipotizzato non è stato ancora provato che nell'autismo ci sia una significativa componente di compromissione del sistema specchio qui per esempio vedete un esperimento fatto su dei bambini che prendevano un oggetto o per mangiarlo o per posizionarlo in una tasca che avevano sulla spalla e cosa facevano i ricercatori andavano a registrare da un muscoletto qui della bocca e registravano un'attività muscolare anticipatoria un po' diciamo l'effetto acquolina in bocca cioè il bambino normale si protende verso la tavoletta di cioccolato sa che questo avrà lo scopo poi diciamo di introdurlo in bocca e quindi c'è un'attività anticipatoria che qui vedete descritta nella curva rossa questa attività qui è un'attività anche in osservazione cioè nella curva di sinistra avete in esecuzione quindi in esecuzione vedete la linea verticale questa è quando il soggetto tocca quando il soggetto tocca la cioccolata quando il bambino tocca la cioccolata vedete che già prima di toccare la cioccolata l'attività muscolare si attiva quindi il bambino ha ben cosciente quello che farà e lo stesso in osservazione la parte di destra cioè se vede un altro bambino prendere la tavoletta di cioccolato si attiva il proprio muscolo e vedete sotto c'è il bambino con ASD cioè disturbo dello spettro autistico DSA e vedete che praticamente l'attivazione muscolare anche in esecuzione è tutta posteriore al contatto cioè finché il bambino non tocca la tavoletta non sa praticamente o comunque non e in osservazione vedete la curva è completamente piatta non c'è alcun tipo di comprensione di ciò che il dimostratore in qualche modo andrà a fare e quindi ecco penso che esperimenti di questo tipo siano cioè importanti per gli aspetti anche di appunto di come approcciarsi come approcciarsi all'insegnamento e come approcciarsi appunto a bambini con questo tipo di problematiche c'era la domanda c'era prima credo qualcun altro sì dunque si è parlato della matematica secondo me però bisognerebbe riconoscere che il problema non è la matematica è un problema più di base per è la capacità di capire il testo la lingua cioè questo non lo so se è problematizzato la matematica è del tutto secondaria secondo me cioè io cioè proprio sperimentalmente un figlio di miei amici dice il come era il complementare la metà del complementare di 18 gradi doveva dire la metà del complementare di 18 gradi cioè basta sapere cos'è il complementare ma per questo ragazzino normalissimo era un compito invalicabile cioè lui era proprio fuori era interessante notare la metà del complementare di 18 gradi 36 gradi basta pensarci un pochino ma diciamo non ha niente a che vedere con la geometria a che vedere con cioè a mio parere quando si parla di cervello il linguaggio continua a essere l'oggetto più grande che ci sia da da Kindersprache und Afasie di Roman Jakobs poi diciamo è la cosa di gran lunga di più importante e mi interessava anche quella quella diapositiva insomma che faceva vedere le due aree che si attivavano per l'inglese madrelingua e per il francese appreso due aree distinte e invece in chi parla due lingue uno sempre invidia sempre i figli degli amici che sono bilingue perché hanno una grande come dire un grande vantaggio però bisognerebbe essere un pochino più analitici bisognerebbe anche chiedere se questi che sono bilingue che competenze massime possono raggiungere in ogni delle due cioè io sono convinto nessun grande scrittore sarà mai nato con due cioè non lo so questo è aperto alla falsificazione ma io so cos'è un grande scrittore e come usa la sua lingua secondo me uno che nasce con due lingue potrà scrivere sarà a suo agio nel mondo potrà fare dei buonissimi articoli scientifici ma non sarà mai Carlo Emilio Gad ecco questo grazie di questo commento mi sembra provocatorio e interessante e vuoi commentare non so come si è legato ah per rispondere sì sì il punto della matematica ovvio si parte tutto dalla comprensione nella fattispecie di un problema però poi si richiede un passo in più perché la matematica è comprensione del testo ma applicazione delle regole a un testo che viene letto capire quello che deve essere messo in atto in quell'esercizio nello specifico molto spesso io ho visto con i miei ragazzi la comprensione del testo è difficile per loro diventa impossibile capire quello che loro devono fare per trovare la soluzione molto spesso il testo non è chiaro una volta che gli è stato spiegato il testo comunque molti di loro già partono dal presupposto che non hanno idea di come si faccia e se per molti magari una difficoltà dovuta a limiti anche a diciamo a dei limiti propri per la maggior parte diventa il fatto che fino a un certo punto gli è stato insegnato c'è questa parolina devi fare questo se quella parolina non c'è loro sono assolutamente nel panico quindi il fatto di l'apprendimento inteso come insegnarli non ad applicare a memoria le formule perché ci sta una parola nel testo ma a ragionare su quello che gli viene chiesto comunque inizio chimica mi rifugio nei calcoli e nei resercizi perché riconosco con l'esperienza che la chimica è la più linguistica delle scienze dure nel senso che una reazione assomiglia a una frase molto di più di quanto un'equazione di Maxwell gli assomigli c'è tanto anche nell'equazione di Maxwell ma non non è la descrizione di un fenomeno ecco io nella mia pratica mi rifugio nei calcoli con le moli perché almeno lì possono esprimere perché se gli chiedo di descrivere il fenomeno e di tradurre dalla chimica alla frase in italiano e viceversa lì effettivamente il problema è grossissimo cioè diciamo la chimica che secondo me è la più linguistica delle scienze dure io lo ripeto non è che sia capita più della matematica se è possibile anche di meno d'accordo? mi permetto di prendere la provocazione sul quale sia la disciplina più linguistica a scopo provocatorio prendo la provocazione del fatto che la chimica sia più linguistica della matematica ma senza entrare in quello noto che in biologia non sono solo i termini è il modo di ragionare le metafore che si usano sono trascrizione traduzione codice eccetera quindi forse ci sono altre discipline che sono altrettanto linguistiche e se no 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 ma senza senza assolutamente fare gerarchie volevo soltanto riallacciarmi e sottolineare un commento che facevamo con la professoressa Barsacchi che il linguaggio nelle varie discipline sarebbe sì sì va bene comunque e io passo dal linguaggio all'area motoria il movimento secondo me è importantissimo soprattutto nelle prime fasi di vita perché il bambino apprende muovendosi allora io volevo sapere se l'area motoria visto che ci sono tutte le afferenze degli organi di senso che sono stimolati continuamente durante il movimento potenzia anche le altre le altre aree e in che misura nel senso quanto importante è l'area motoria e poi faccio un passo oltre perché quell'esperimento del topo sulla ruota mi ha fatto venire in mente che si formano queste spine dendritiche e poi però il movimento diventa automatico nel momento in cui il movimento diventa automatico faccio l'esempio uno ripete la stessa cosa per tantissimo tempo e perfeziona quel movimento quel movimento poi diciamo rimane lì e non viene ulteriormente arricchito quindi se uno impara diciamo nella specializzazione precoce di un ragazzino che fa sport quei movimenti poi non c'è un'evoluzione oppure l'evoluzione c'è perché l'ambiente viene arricchito sono due domande molto interessanti dunque l'area motoria è importante per esempio negli esperimenti che vi ho raccontato dell'ambiente arricchito quindi l'ambiente arricchito come modula lo sviluppo dei sistemi sensoriali e periodi critici in realtà non tutti ma molti degli effetti dell'ambiente arricchito si possono riprodurre semplicemente tenendo gli animali in condizioni standard e dandogli una ruota girevole quindi di per sé solo il movimento diciamo rende conto di molti di questi effetti di accelerazione della maturazione quindi è importantissimo anche perché giustamente come diceva diciamo il movimento poi automaticamente stimola anche l'interazione col mondo e gli altri sensi coordinazione visuomotoria tante altre cose per quanto riguarda il secondo aspetto non ho dati diciamo diretti per quanto riguarda il bambino però parlo diciamo di qualcosa di simile che è dopo le lesioni nell'adulto dopo le lesioni nell'adulto dopo un ictus per esempio in corteccia motoria si pensa che si riattivi in qualche modo un periodo critico quindi c'è una plasticità maggiore perché vengono prodotti appunto fattori neurotrofici e qual è il problema proprio della riabilitazione il problema della riabilitazione è che sì insegniamo al soggetto a fare un dato compito il soggetto migliora su quel compito però poi non generalizza cioè l'insegno per dire a prendere il bicchiere ma se deve prendere la bottiglia sbaglia quindi è il problema proprio della generalizzazione un po' come come diceva quindi se diciamo anche con gli ausili robotici con la fisioterapia c'è un miglioramento task specifico poi diciamo uno esce dal task che va nel mondo reale e non ha non ha un miglioramento quindi questo è uno dei problemi e in generale della generalizzazione di come rendere questi apprendimenti diciamo in qualche modo funzionali a un recupero motorio to cure piuttosto che selettivo questo della generalizzazione nella riabilitazione è una cosa che è molto rilevante per l'insegnamento mi viene da pensare perché è chiaro che è stato citato da molti qui imparare a memoria o imparare a capire eccetera eccetera il giorno che capirete capirete perché tu studi lo stroke anche insomma cosa vuol dire come indurre la generalizzazione sarà grazie leggevo recentemente da un testo divulgativo che si chiama nella testa degli adolescenti non mi ricordo adesso più l'autrice che nella fase dell'adolescenza ci sono ancora delle aree che devono maturare se non ricordo male la maturazione avviene fino ai 25 anni con tempi diversi nei diversi individui ecco in funzione di questo mi chiedevo c'è un modo per accelerarne la maturazione cioè ciò che noi facciamo come educatori che sia genitori che sia docenti influiscono in questo perché mi riferisco per esempio alla scarsa capacità di controllare le emozioni alla scarsa capacità di organizzarsi dei ragazzi e mi chiedo quanto sia utile insistere a volte o meno e poi un'altra cosa completamente fuori a quello che abbiamo detto una curiosità che ho dalle letture di Ramachandran un fenomeno come la visione cieca esiste anche in altri ambiti sensoriali o non è mai stata riscontrata in altri ambiti per la prima domanda è vero cioè ci sono molte e questo diciamo è una speranza comunque anche per come dire la plasticità è ampia le aree specialmente quelle filogeneticamente più recenti quindi le aree prefrontali per esempio lo stesso corpo calloso una cosa di base come la mielinizzazione quindi il fatto di rivestire gli assoni con una guaina mielinica funzionale quindi una trasmissione rapida dell'informazione interemisferica questa maturazione è molto tardiva arriva appunto fino ai 20-25 anni quindi anche queste aree diciamo prefrontali di controllo diciamo di controllo delle emozioni maturano maturano tardivamente però ecco non mi porrei forse il problema di accelerarle nel senso che comunque diciamo anche lì c'è un po' il discorso vulnerabilità verso potenzialità perché diciamo in qualche modo il loro sviluppo più ritardato offre come dire una finestra temporale più ampia perché queste si possano opportunamente modellare nello stesso tempo rende magari appunto l'adolescente soggetto a per esempio un controllo inibitorio delle pulsioni meno forte quindi in qualche modo lo rende più vulnerabile verso certi tipi di diciamo di 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 situazioni potrebbero non essere effettivamente velocizzabili no? sì 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 e sì io non voglio velocizzare niente di tutto questo io credo che la do scusa ma non significa questo ma questo significa che ovviamente ogni età deve assumersi le sue responsabilità però ma scusa c'è anche un discorso evolutivo se i giovani non corressero dei rischi la società non progredirebbe quindi io sono d'accordo con quello che dice il professore cioè anzi assumere le responsabilità non vuol dire accelerare questo processo secondo me poi chiamiamo se ad esempio non hanno fatto un po' di di stabiliti ma se loro hanno la difficoltà nella programmazione delle loro azioni nel lungo periodo io mi chiedo vale la pena insistere molto su queste cose che penso che tutti come docenti facciamo quotidianamente oppure se sia in qualche modo opportuno chiudere un occhio vantaggio di attenzione poi data su altri aspetti ecco se posso fare un commento alla visione cieca lo dico brevemente magari per chi non e questa è stata riportata credo negli anni settanta nel 74 o cosa del genere da un oftalmologo un neurologo in Inghilterra e sostanzialmente il primo caso credo fosse un soggetto con un tumore nelle aree corticali visive per cui il soggetto avendo questa distruzione dell'area visiva primaria si dichiarava completamente incapace di vedere completamente cieco nell'emicampo controlaterale però diciamo quando gli venivano mostrati dei campi dei flash di luce per esempio il soggetto diceva io non vedo nulla però una volta che veniva incoraggiato a fare un guess a dire esattamente dove era venuto si trovò che praticamente avveccava molto spesso anche la per esempio se una sbarra era orizzontale o verticale in assenza totale di percezione conscia cioè non era conscio di vedere ma poteva diciamo giudicare con buona approssimazione se una sbarra era verticale o orizzontale o la posizione di un flash di luce quindi questa è stata chiamata con un ossimoro blind sight visione visione incosciente o senza percezione e cosa si pensa si pensa che ci siano delle strutture sottocorticali come il collicolo superiore come il genicolato che quindi sono nella via che collega la retina con la corteccia visiva primaria che possano mediare questa percezione che però non arrivando alla corteccia non si manifesti come conscia questo è un po' il concetto però se esistano in altre modalità sensoriali non lo so francamente non ho mai trovato diciamo report in letteratura di questo credo di no credo di no che peso ha la genetica e la plasticità ambientale quindi poi nello sviluppo celebrale dell'adulto se può dare una percentuale diciamo come dicevo gli studi diciamo quelli più quantitativi sono stati fatti proprio su questi gemelli monovigoti vissuti in ambienti diversi e poi però la misura diciamo una misura in qualche modo cognitiva un po' grossolana cioè il cui il confiente di intelligenza e lì l'impatto genetico diciamo a seconda degli studi varia diciamo però dal 40 al 60 per cento ecco in generale direi half and half cioè metà e metà ecco per cui il contributo genetico è importante ma quello ambientale fa diciamo grossolanamente circa la metà io vorrei fare un'osservazione che molta della discussione è stata anche abbastanza animata sull'aspetto della plasticità rispetto al diciamo così all'apprendimento a come a come sfruttare queste nozioni e questi concetti e questi per capire diciamo cose che siano utili per l'insegnamento io vorrei sottolineare anche che il messaggio che il cervello è plastico che è malleabile che esistono delle finestre di opportunità che si possono riaprire anche insegnare questo non le conseglie è un messaggio fondamentale per un ragazzo io lo vedo con sono cose quando uno racconta a un ragazzo hai un figlio oppure è un messaggio positivo un messaggio che ce la puoi fare un messaggio che che puoi sfruttare i tuoi talenti e c'è alcuni talenti insomma quindi questo mi sento di dire che sono due facce della medaglia uno come questi studi ci possono aiutare a come insegnare meglio ma anche il fatto stesso che esistano dei fenomeni di questo tipo e che noi oggi crediamo che il cervello sia così è un messaggio di per sé molto importante questo era un'osservazione che allora io volevo fare un pochino di considerazioni su alcune cose che sono state dette diciamo il discorso dell'apprendimento è una si va a diciamo abbiamo a che fare con una complessità enorme e le singole difficoltà poi spesso secondo me vengono fuori a parte i problemi organici che possono esserci perché c'è una tendenza poi a prendere delle scorciatoie Piaget per esempio ha detto che c'è il periodo che ci sono i vari periodi poi a un certo punto c'è il pensiero concreto e si passa al pensiero astratto ecco questo passaggio qui secondo me noi a scuola tendiamo sempre ad anticiparlo ma quanto i nostri ragazzi sono capaci di astrarre specialmente di cose che non gli abbiamo mai fatto vedere o di fenomeni che gli raccontiamo così velocemente e che ai quali loro non hanno nessun riscontro di senso e di significato profondo quindi diciamo la parte della matematica io ricordo io sono stata tutti gli anni che la SIS è stata aperta a matematica c'era la professoressa Dentella che lavorava con i docenti per insegnare come si insegnava la matematica e la geometria con le forbici e la carta si partiva sempre da qualcosa che i ragazzi potevano vedere osservare manipolare cambiare eccetera e si portava poi a vedere la formula molto spesso ci sono le scorciatoie e questa cosa qui magari poi porta il ragazzo a risolvere l'esercizio però è una cosa che per lui che ha poco substrato nella sua testa poi l'altra considerazione l'attivazione trasmodale io non sono specialista assolutamente di psicologia però la psicologia cognitiva me la sono un po' letta studiata strada facendo c'è Gardner che parla delle intelligenze multiple e poi ci sono un po' di studi che dicono i bambini che studiano musica da piccoli poi alla fine sono più bravi in tutto e anche questa cosa qui la scuola sarebbe cioè tutte le materie che insegniamo se fossero fatte tutti diciamo nello stesso modo con lo stesso obiettivo veramente con il ragazzo al centro con dieci persone che ci lavorano tutte sarebbe proprio il modo ideale per svilupparle tutte queste intelligenze ovviamente con le differenze che appunto la costituzione genetica diciamo con i blocchi che ci sono però sarebbe invece noi separiamo cioè i ragazzi hanno un'idea della scuola come piena di steccati io insegno in un liceo scientifico in quinta vorrei che insomma questi là ci fossero tutti aperti d'altra parte l'esame di stato ci dice di fare un colloquio multidisciplinare quindi invece purtroppo vedo che sciogliere questi là ci fargli saltare gli steccati è molto difficile anche perché loro sono molto legati al disciplinare a quel codice linguistico a quel modo di ragionare e difficilmente traslano invece questa cosa qui sarebbe è una cosa che dà qualità e complessità poi l'altra cosa che riguarda diciamo come diceva il professor Cattaneo fateli vedere uno di questi esperimenti ai ragazzi no? a parte insomma devono avere i prerequisiti ora parlo in didattichese per capirli però io per esempio ai miei alunni di quinta li faccio sempre vedere le mamme coccolone le topoline coccolone le topoline indifferenti per quando li faccio vedere la prima donna dell'epigenetica quindi la metilazione delle citosine eccetera e poi dalla discussione dicono ma come uno stimolo c'è una carezza in fin dei conti che è la cosa più lontana da quello che posso pensare che sia il DNA lascia un segno chimico poi addirittura sembra che venga ereditato quindi siamo nell'eresia più assoluta rispetto al dogma centrale eccetera e però loro si discute e si dice sì è vero che è limitato soltanto a questa cosa qui soltanto al recettore dei glicocorticoidi che è metilato nell'impocampo però potrebbe essere la punta di un iceberg di un meccanismo usatissimo in natura soltanto che ora per ora l'abbiamo visto solo lì perché è molto complesso andare a vederlo e quindi diciamo l'ipotesi genecentrica per cui è determinista in definitiva che lascia invece la libertà all'individuo in base alle proprie esperienze al proprio lavoro a quello che fa di migliorarsi di dare il massimo e di sfruttare anche le opportunità e gli stimoli che l'ambiente scolastico offre è importantissimo per i ragazzi e quindi vabbè poi il discorso sarebbe lunghissimo ma mi fermo qui cioè il discorso del cercare di disarmarli un po' con la complessità che è una cosa importante allora abbiamo toccato molti temi avete altre curiosità sì io volevo sapere cosa succede alla nostra plasticità durante l'invecchiamento cioè si riducono le spine eh beh anticipiamo un po' l'argomento della prossima settimana però però diciamo la plasticità sicuramente sì c'è un fenomeno in generale di atrofia perdita di connessioni quindi un po' il discorso che facevo precedentemente della riserva cognitiva cioè queste iperconnettività diciamo creata nelle fasi precoci può servire diciamo a vicariare delle vie che in qualche modo si perdono perché dei neuroni muoiono oppure delle vie si interrompono e la plasticità sicuramente si riduce però ecco è stato visto sia da esperimenti sui modelli animali per esempio ancora una volta con l'ambiente arricchito cioè dei ratti anziani tenuti in un ambiente arricchito recuperano in parte la loro plasticità e qui a Pisa c'è stato proprio lì al CNR anche questo programma cosiddetto train the brain quindi allenare il cervello per soggetti con declino cognitivo lieve mild cognitive impairment che si è dimostrato efficace nel revertire almeno alcuni dei segni patologici quindi sicuramente il consiglio diciamo di tenere il cervello in allenamento e di diciamo si applica poi questo circuito virtuoso diciamo di attività motoria attività cognitiva di cui abbiamo parlato durante il periodo critico possono in qualche modo traslarsi anche al al periodo al periodo diciamo più 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 avanzato quindi attività motoria attività cognitiva relazioni sociali queste sono tutte sicuramente vengono definite terapie o comunque diciamo stili di vita plasticizzanti ecco che mantengono comunque aperte anche lì con qualche limite ma queste queste finestre queste finestre plastiche quindi questi dati sia sull'uomo che sull'animale confortano questa 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 visione la relazione tra plasticità e creatività pensiero divergente perché pensavo come a scuola forse non siamo tanto in grado di sviluppare la creatività o perlomeno di riconoscerla certi alunni che danno delle soluzioni a dei problemi in matematica in chimica diversi dal solito a volte noi non siamo in grado neanche di anzi pensiamo sia sbagliato magari e questo forse è una carenza grossa della scuola cioè in fondo cercare dei risultati standard delle soluzioni che non è quello forse forse dobbiamo mirare più a sviluppare certe certe possibilità forse anche la plasticità in relazione a questo non lo so ecco questo è molto affascinante come concetto quindi il modo diciamo in fondo l'intelligenza in generale abbiamo parlato di Gardner però ecco il problem come risolvere un problema ecco quindi ci sono sicuramente questo che appunto nella matematica è meraviglioso soluzioni molto eleganti dirette che vengono fuori proprio dal genio ecco sicuramente sì anch'io penso che la scuola dovrebbe in qualche modo incoraggiare questo tipo di diciamo di intelligenza questo tipo di creatività che è dovuta sicuramente a un processamento diciamo non convenzionale o comunque non diciamo non nel solco di ciò che viene magari insegnato correntemente quindi qui adesso abbiamo parlato in qualche modo di cervello collettivo non so se da insegnanti ecco vivete o potete paventare in qualche modo questo rischio in qualche modo di una omologazione culturale dovuto al fatto che non so adesso porto un esempio proprio di vita diretta per esempio veniva detto da uno dei miei figli che sostanzialmente era stata assegnata una ricerca e tutti avevano portato la stessa ricerca copiandola da wikipedia e quindi in quel modo diciamo è chiaro che c'è una omologazione estrema mentre invece dico ai miei tempi magari c'era quello che andava in biblioteca cercavi il libro cercavi l'enciclopedia quindi c'era una diversificazione maggiore ecco non so questa è una cosa a cui volevo mettere al diciamo ecco se in qualche modo questa la globalizzazione diciamo anche delle conoscenze in qualche modo rischia di creare dei cervelli in qualche modo tutti uguali e quindi anche meno se vogliamo creativi questo per una domanda che ribalto diciamo dall'altra parte chiedo scusa l'altra volta ho fatto una domanda su neuroni specchio era argomento di oggi ora quella che farò sarà di quest'altra lezione sicuramente per cui insomma a parte la battuta generalmente quando si parla di spine sinaptiche di sinapsi ci si riferisce a quelle chimiche io so che esistono anche sinapsi elettriche mi chiedevo se sono plastiche cioè se è possibile in qualche maniera modificarle da questo punto di vista grazie articoliamo in realtà perché la collega mi dà il gancio a parte il focus comprensibile sui mammiferi quindi sulla plasticità neurale dei mammiferi mi incuriosiva sapere se c'erano stati fatti degli studi e quindi mi raggancio alla collega su altre forme di strutture cerebrali per fortuna non siamo l'unica specie intelligente e su questo possiamo discutere del pianeta dunque per quanto riguarda la prima domanda sì è importante ci sono tutta una serie di gap diciamo di sinapsi elettriche quindi in cui un evento per esempio di una variazione del potenziale di membrana viene direttamente trasmesso da una cellula all'altra e ci sono tutta una serie di network per esempio nella retina o anche in altre strutture che sono accoppiati in questa maniera questi sono importanti per esempio per fenomeni di sincronia e sì sono plastiche per esempio è stato visto che mi vengono in mente modelli di epilessia quando pensiamo alla sincronia neuronale e quindi a un network che in qualche modo fa sì che cellule diverse oscillino diciamo in fase ed è proprio il compito di queste giunzioni di queste sinapsi elettriche e appunto è stato dimostrato che in modelli diciamo di epilessia quindi di plasticità se vogliamo patologica quindi di iper sincronizzazione si ha proprio un'alterazione delle sinapsi elettriche che sono modulabili in quanto viene rilasciato un mediatore chimico un neurotrasmettitore che a seconda della quantità o di quanto viene distrutto magari dagli enzimi che poi sono preposti a tale scopo ecco è modulabile una invece sinapsi elettrica essendo del tipo tutto nulla come un potenziale d'azione è meno modulabile però diciamo è meno modulabile però per esempio il grado di accoppiamento è modulabile cioè per esempio le connexine o altre diciamo componenti molecolari che mediano questa trasmissione diretta di un evento depolarizzante da una cellula all'altra chiaro che diciamo la densità proprio di queste sinapsi chimiche può inficiare il livello di accoppiamento quindi un livello di accoppiamento quindi non tanto agendo sulla diciamo sul rilascio del neurotrasmettitore ma sulla diciamo sul numero di contatti sul numero di sinapsi chimiche tra due popolazioni tra due cellule per esempio in contatto questo diciamo le accoppia in maniera diversificata quindi sì direi che sicuramente sono plastiche assolutamente e sì il focus è molto sui mammiferi perché diciamo questo è un bias in qualche modo anche della ricerca attuale c'è sempre ci viene sempre più chiesto diciamo viene sempre più chiesto al ricercatore la parola una delle parole chiavi è traslazionale cioè bisogna studiare qualcosa che in qualche modo poi a lungo termine abbia una ricaduta una ricaduta sull'uomo quindi questo scoraggia se vogliamo un po' lo studio su modelli non so anche di non mammiferi che però sono stati molto importanti per la definizione di alcuni dei meccanismi diciamo di base della plasticità non so il tetto ottico della rana è stato studiatissimo e quindi sì c'è un po' diciamo questo limite dei modelli perché magari per certe cose non so per lo sviluppo per esempio i modelli degli anfibi sono lo sviluppo precoce avendo diciamo un periodo diciamo di sviluppo che non prevede un utero ecco quindi più accessibile e poi in generale se pensiamo ai tre cervelli il cervello rettiliano il cervello emotivo e la neocorteccia diciamo nell'anfibio nel pesce essendo meno diciamo sviluppate queste strutture che si ritiene più plastiche il focus diciamo per chi per chi va sulla plasticità è quello sicuramente dei mammiferi che si ritiene comunque che nei vertebrati chiamiamoli inferiori prevalgano le risposte in qualche modo probabilmente istintive e non modulabili il polpo è un ottimo modello perché in realtà ha una capacità di apprendimento straordinaria ecco il condizionamento operante pone dei problemi diciamo per quanto riguarda l'approvvigionamento il polpo è un invertebrato interessantissimo io qualche anno fa ho invitato qui Graziano Fiorito che è un neurobiologo molto bravo che sulle polpo alla stazione zoologica di Napoli e ci ha affascinato con le cose sul polpo e mi diceva che una delle difficoltà di come diceva Matteo diciamo di estendere la modello più generale è l'approvvigionamento ma in che cosa che va pescato soltanto non si può ancora non si può fare quello che si chiama breeding e quindi questo sembra un problema stupido ma in realtà è un problema che condiziona l'essenzione di un modello ed è un peccato che poi dopo è chiaro che se gli studi si fanno su individui presi dall'ambiente non hanno la diversità genetica ma non hanno i vantaggi e quindi insomma a volte ci sono barriere di questo tipo sperimentale che limitano ma io concordo che il polpo è un ho sentito una ricerca che hanno fatto sui polpi di stromboli sui polpi di stromboli questi organismi praticamente che cosa fanno si sono chiesti come fanno a sopravvivere nei pressi della sciara del fuoco praticamente gli studiosi pensano che riescano a prevedere i terremoti e le eruzioni vulcaniche e quindi loro fuggono e si nascondono e creano proprio dei nascondigli a prova di eruzione di blasto insomma sicuramente sono anche diciamo dal puntista del visivo è un occhio particolarmente quindi sono sicuramente come diceva il professor Cattane oggetti di studio molto interessanti un commento sui modelli io i miei studenti lo sanno nella prima lezione del mio corso parlo di modelli per studiare apprendimento memoria abbiamo il C. elegans adrosofile il topo e però ci sono dei fenomeni neuronali affascinanti in specie che non sono modelli tra virgolette come per l'appunto il polpo e cito sempre questo esempio di una formica del deserto la quale per cercare cibo va dalla tana dal suo formicaio e fa un percorso a zig zag che è un tipico random walk un percorso casuale il percorso del ubriaco dopodiché quando è a distanze che sono tre ordini o quattro ordini di canadessa maggiori delle dimensioni proprie la via del ritorno è una via retta e uno mette questo grafico e dice adesso capisci perché questo e questo si capisce nel senso che c'ha un contapasti c'ha una bussola con la luce polarizzata e hanno fatto esperimenti in cui gli mettono i trampoli quindi gli allungano il passo e quindi sbaglia per difetto e allora questo non sarà mai diciamo non porterà mai a essere traslazionale forse quasi mai non è detto e non è direttamente traslazionale ma è un aumento di conoscenza strepitoso quindi una formica che fa quella che si chiama path integration e calcola la rotta in questo modo con la luce polarizzata del sole e la lunghezza del passo e questo non è un modello ma è un fenomeno interessante quindi questo sì sì ma io penso che concordiamo con questo sì sì e io credo che possiamo chiudere la sessione vi ringraziamo ringraziamo il nostro relatore grazie grazie